del deposito sono la da una vita ormai questo? no ma qua secondo me avete esagerato dove? è dar comunque dobbiamo farla senza sparare ah giusto dove sei? è qua la c oh va bene è meglio esagerare non sono tanto convinto bisogna vedere se bastano le strutture vabbè che l'hai fatta come la tua giusto? si ma se tu adesso noi adesso facciamo gli spawn senza mettere le trappole e poi in trappoli tutto ovvio comunque la mia base è metà di quella della c e metà di quella che hai fatto e comunque non passano vabbè che arrivavano al 115 ieri io non sono convinto della d la d sarebbe quella più quella dove ti possono attaccare da tre lati ho paura per il lato a destra a me ogni volta fa così allora inizio io inizio a coprire qua sopra si aspetta che arriviamo anche noi vabbè 900 strutture ci sta questa qui lasciala aperta perché se mi viene su qualcuno da qua vorrei tentare di farlo andare giù ah ok quindi qua come facciamo così no basta sto buco qua ecco lì puoi chiudere ma sto buco qua lo lasciamo aperto sperando che non rompano le scatole iniziamo a potenziare? direi di si ok dai le trappole le metto io ok? no no ma prima potenziamo vediamo un po le cose e poi butterei trappole che se dobbiamo buttare giù qualcosa che non ci passano le strutture butterei pure la trappola posizioniamo tutto il ferro anche se finissi le strutture le trappole le puoi mettere lo stesso no eh ah ok eh no io ti consiglio di poter metterle dopo alla fine io ho fatto così che poi ho dovuto buttar giù raga però usiamo prima quello che ho io ok? che sennò tutto il 130 full perk bene full perk io di full perk ho solo le gas però devo craftarle darli a muro e dinamo al limite gli posso cambiare un paio di perk e guarda dove c'è uno non lo vuol dire mai che ha scato andiamo tutto a posto ok ciao simone e tu buona qui sta a posto dentro dobbiamo potenziare eh le mura le mura ciao titanic ciao nico io l'ho fatto invece qua ho lasciato il muro ho capito infatti qua ho messo il muro e ho sbagliato infatti poi mi sa che l'allargo pure io anche se non m'hanno rotto e comunque non hanno provato a rompere il muro allora raga ci stiamo impostando monte sfago 10 ok? c'è che è? madonna mi fa male la mano a forza di scherza di tasto da pc è pronto io invece controllo che c'è il macro e c'è il tastino dietro clic 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 ciao enzo è il limite fai i sindrome del tunnel campale no? si ti vengono i cali però io da play sarà sarà due ah no l'ho accesa da un paio di settimane fa per fare il ragionamento buono fa sopra apposta se no è da mesi che non l'ho che non la uso ah ah la metti tu in freezer amore la potiglia? si grazie allora è il posto io vorrei io posso no no ho dimenticato un muro di su avanti dopo quando torno io vorrei io posso qui ok e qui qui bisogna fare di solito detto perché ti arrivano giù di tutto ciao giuseppe no giuseppe ora non giù con gli iscritti ok? ciao vale ciao manuel stavattina avevo detto che portavo montesfago raga ok? ma visto che c'è freedom ti fai craftare le trappole da lui dai? da 136 materiali no? no ma io già ce li ho ah ok vabbè penso che non bastano comunque freedom ti devo già dire però ti do i materiali ok? che bella che è riuscito a farla così bene sempre se me le vuoi craftare ma certo le telecraft allora vi dico solo che ho vabbè vabbè 30 coli 130 full perk solo 30 30 non ti basta ehm 200 dino a muro a 130 full perk e 81 trappole a gas a 130 full perk penso che non bastano io di trappole adesso cosa ho? se vuoi ho ho una un posguratore a soffitto a 25 ciao vale raga stanno impostando montesfago 10 così non so se raga poi la facciamo questa montesfago 10 certo e vabbè raga io adesso farò una live su come impostare montesfago 10 dopo vabbè quando finiremo vi farò vedere tutto e poi farò un'altra live diciamo dove abbiamo proprio montesfago aspetta che intanto metto una ventina di gas dobbiamo prendere altro ferro pietra che ve lo vi farò vedere bene bene dopo raga intanto metto a craftare un po' di gas ogni tanto perchè non ne ho più perché farsi a posti incominciare a mettere gli acqui di qua terra ma io direi di sono posturi prima di sono posturi io direi di è davvero prima di e poi forse non è meglio morire beh sì è vero ciao real buona cia ciao amici ciao andres no mici non ti posso invitare perché siamo impostati a montesfago oggi non gioco con iscritti perché ho giocato stamattina avete fatto stamattina è un po di battaglia un po di serve il mondo francesco stiamo impostando montespago non vi posso invitare come ha già detto anche allora l'ha detto stamattina ma vabbè ormai non posso dire che va bene l'attiva bene potenziale ragazzi poi quando finiamo tutto vi faccio vedere tutti i percorsi ok io la d l'avrei anche buttata azzù per mettere tutto in ferro perché è un po un visto ma ci sono trappole buone è quello che mi rompeva le scale la d è un rischio perché non sai se le parti arrivano la d è una scommessa eh sì enzo lo so ready game dipende che livello sei regalare poco se vuoi ti posso trattare un maggior parte dei livello e vediamo potenzialmente va bene aggiungimi e quando sono quando ho finito ti invito io vediamo cosa posso fare per te da dentro avete finito da grazie enzo rega poi diciamo questo video vi aiuterà in futuro che poi vi farò vedere bene bene come impostato dovete come si dice assoltire come si dice pagare prendere friton che il grande maestro e il geometra è detto 50 lauree in dai prego continui lei ho copiato anch'io dagli altri ti chiami alla stessa ora a copiare frido è lo stesso nome del canale non arrivano pure ma no nascono qua dove siamo noi volendo essere bastati mi si potrebbe fare un tettuccio qua con qualche gas è uguale che ho detto è quello del canale no no abito ad adesso no raga però la quando si sbloccano dare quando è che si sbloccano il progetto da 130 tutto monte spago 7 comunque oma monte spago 7 o sì no 66 ma bar ha detto gaming troll si può aiutarla a fare va allarguta da materiali più tardi sì va bene il capitano grande è certo lo so ma io non cancello mai video che fa ciao riccardo va bene vito è la f che secondo me è un po no ma la f la f è quella dentro sul buco si può tirare giù tutto eh perché secondo me non ti attaccano più dice vabbè vediamo se rimaniamo senza strutture la tireremo buono qual è l'acca che dobbiamo ancora vedere l'acca qual è? è quella sopra ah sì quella l'ho fatta più o meno ho tolto un paio di cose rispetto a quella che ho messo io anche qua è una scommessa vabbè qua possono attaccare da due punti Non so se fargli qualcosa qua sotto Ieri io avevo fatto partire la 8 L'ho chiuso proprio Sono uscito Dara ha detto gaming se lo puoi aiutare domani pomeriggio Pomeriggio no è tardi Sul tardi perché finirò a lavorare le scelte Sul tardi gaming Sì Emanuele E adesso no È il capitano Diti che mi aggiunga se mi vede domani Quando mi vede online Gaming perché non aggiungi a dar Dar for more 5 Lo vedete anche nella mia live Invece è scritto dar for more si è unito Da dopo Da dopo re Ciao ciao Comunque qua mettete una scala Lasciate una scala così io posso andare poi sopra a mettere la base Se metto la base fa il devasto con questa Che ha il 30% di danno in più Di danni Di durevolezza Più ricarica Infatti dovevo tirarla su anch'io Perché E' che ce l'ho Epica E mi mancano i 25 No io ho avuto quello e l'ho trovato in un lama E volevo tirarmi sulla vichinga Però poi ho visto i perk di questa E ha detto no No ma qua è apposto Al massimo facciamo Gli facciamo un muro così Perché qua il problema sono quelli i danzati Questa cosa è inutile Non fanno il soldato Sì ma anche questa sì Quale? La spezia di fontana No è una cosa che tira delle borbe Daniele adesso no Ciao Giuseppe No Come su battaglia reale No devi accettare la richiesta a Vito L'ho già fatto Va bene Vito Come su battaglia reale Che se prendi Eh molto Il cavolo Allora aspetta però qui Siccome a me piace vedere tutto dello stesso colore La facciamo inferno Eh mamma mia Eh oh sono maniaco Così poi ci metti una vita A distruggerla Ma quando finisce Almeno per un'oretta Ce l'abbiamo ancora ragazzi Ecco su che scanatra Bella che dopo Va bene il titanic Ma non ce ne parla per adesso raga Che volevo distruggere tutto quanto Della base Ma dopo lo scudo si richiude Che certe parti non te le fa più raggiungere Ma è vero Io dico la missione Non è una missione difesa Comunque ti posso aiutare anche adesso Ti do due tre Ti do un'arma Vediamo Dimmi però che eroe usi Di solito C'è quello che usi di più Ho finito il ferro Andiamo a prendere Andiamo a prendere No io Viene quattro prima Che devi fare? Ah Chiudere due tre robe qua su Potenziare Non le bastano Mille Mille Cosa devi potenziare? Al qua sopra che ho messo le due scato Una qua E quella che va a sinistra Basta Il tetto non so se l'ha potenziato Sì sì E' questa a posto Mi devi aggiungere Questa la tiriamo via La tiriamo via per sicurezza Questa o no? Vale Questa dove sono io? No perché voglio andare a mettere poi la base sopra Come facciamo Ah ok Lascianoci Così sono anche collegate Quindi cosa sarebbe Se dopo Due costruttori Bisogna farne una anche qua Per andare a collegare quella No ma intanto Pietro ne ha uno Quindi Pietro metterà su una Io metterò da dove spawnano Poi ci sono le trampole Sì Allora qua Che bisogna farne una scala E però poi se salgono Punto E allora facciamo un passaggio qua Al massimo dietro Dietro Di qua Viene Sì 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 Lo vedo Però lo facciamo Il contrario Così loro non possono salire Così E poi così Non si può fare nient'altro Qua c'è un muro da potenziare E chiudere magari Sta salitina qua Che non mi vengono su Poi mi aiuta a fare monte Che è successo? No No Non dimmi che hai crashato No ti è passato anche Il leader Vuol dire che hai fatto No è ancora lui Certo Terminator E stiamo impostando Stiamo impostando Per Montespago 10 Per la difesa 10 Allora il leader è sempre lui Vabbè Ma non è crashato In senso che lui Si blocca UBS E la G qua Che dobbiamo solo potenziare Altre cose Andiamo su Eh No Adesso son crashato io Ehm Mod Raga Ehm Per adesso è il bot Ehm Per me di torpiamo avanti Sicuramente Perché ho dato moda Dei ragazzi Che comunque giocavo tutto E ho visto che sparivano messaggi Allora Dar Sono crashato Comunque Immaginavo Comunque Sarai il primo Terminator Che lo darò Appena Appena Diciso di farlo Che sei sempre con noi Sia con me Che con Pietro Quindi sarai il primo Quindi Sarai il primo Perché Io non mi fiderei tanto Ferminator Sia è vero Nei chi Ah ma è bravo Mi fiderei di vita Sia con il risultare Mi viene senso È bravo Appena decido di mettere mod Sarai il primo Che Ti chiederò Ah ah No Ti prego Non ci prego Io ti seguo Allo stesso Non mi disinscrivo Bravo Ah infatti Sei un buon esempio Dovreste andarlo a spammare Un attimo che vedo una richiesta Ah 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 Ai già andato al cine mai arge io-Pietra Ah ok sei tu il re, ok ok non sapevo chi era, infatti ho visto italiano però, non capivo. E' questa a posto, la G è a posto. Anche se io qui avrei fatto delle rampe per buttarli fuori nella labbra. Si forse era la soluzione migliore quella. Però ormai abbiamo fatto, pazienza. Non posso entrare. Dietro mi dai il teaser che devo invitarlo a un ragazzo e gli devo dargli due armi? Eeeh non me lo fa andare perché? Mi dice che sei proprio uscito adesso. No io ci sono. Mi sa che si è poggato tutto. Vabbè allora faccio. Ah ok adesso si. Ma è pubblica, è privata. Perché non va. Non mi hai scritto però che eroe utilizzi il re. Metti il titolo diciamo ricerca su youtube. Ciao Enzo, ciao Space. Ciao Killzone, ciao Esmar. Eh raga, purtroppo sono crashato qui ma neanche nel tempo di Star Star. Vabbè fammi stare zitto per me. Non ho capito Terminator. Metti un titolo diciamo più... ... 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 Non l'attaccano più, vuoi dire che non l'attaccano più là? No, l'hanno. Niente, va, lì sono crashato. Ci attaccano e siamo morti. Uso lo straniero, ok, quindi ti vanno bene le pistole. Voi che state facendo? State già piazzando trappole? Io le ho messo un po' ma non tutte, però. Qua il problema è come mi è già successo a me ieri, che se ti spawnano da sopra, ti vanno da sopra quando giro. Eh vabbè, devo essere fortunato che non vengono da qua. In questo gioco affidarsi alla fortuna è grave, eh? No, no, ma tu non hai capito, ieri Pietro ha visto, mi ha spawnato sulla montagna, passavano sopra le trappole. Cioè, io non ho mai visto un spawn del genere. Io difesa di modo svago non pare. Eh la D è quella che mi preoccupa anche a me. La D no, la D è messa benissimo, va benissimo. L'unica cosa dovremmo metterci quelle trappole qua. Però quale, io secondo me vi conviene metterle proprio al momento. Perché se non spawnano qua sono buttate. Quindi se vediamo che lo spawn è di qua, e... Eh sì. Fa subito, uno va a mettere le trappole, gli altri difendi. Intanto, mentre facciamo la prima, la prima ondata... Lo so, Giuseppe, lo so, super raffonto, dice, grazie. Ciao. Ciao. Come ti chiami, Claudio? Ti chiami. Nicolás, Nicolás. Certo, Ruben, ma adesso no, perché stiamo portando Montespago X. Ciao, King. Ma Montespago X. Eh sì. Eh sì. Metti il tuo link del tuo canale sulla mia chat. You crazy. Come fai a stare Montespago? Eh, ho giocato abbastanza per arrivarci. Eh, quale è che Daniele? Oh, raga, per sbaglio ho preso un po' il metallo a terra. Lo so, lo dovrei buttare. No, se ti serve, io... Sì, mi servivo. Te lo ridò io. Buono, che figa... Madonna mia, 130. Eh sì, qua servono, eh. Arrivano 140. Ah, proprio. 100, madonna. Bella, che ti... Arrivo, eh. Mi dicevi che ho visto lo straniero, vero? Sì, eccolo. Dove sei? Tu chi sei? Sono Ter. Va benissimo, va benissimo. Grazie a te e ti posso dare, vediamo qui. Posso farmi un giro nella... Sì, sì. Certo. Grazie Giuseppe. Eh, Ruben acqua allora non ci sono. Figata. Bru, prima avevo visto nella live che... Non avevi tanto corrucente perché forse ce l'hai nel deposito, eh? Dietro no, non ne ho mai. Ce l'ho nel deposito, sì. Ah, quante stack hai? Uno stack. Uno e mezzo, sì. Figata. Dove siete tu? Ragà, ma Montespago 10 è difficilissima, eh? E fai tu, se ti arrivano a 140... E poi all'ultimo, eh, ci sono due o tre... Oh, che c'è! Ci sono 1600. Oh, che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? No, che c'è? Oh, che c'è? No, che c'è? Oh, che c'è! No, che c'è! No, c'è! No, vabbè, no, grazie mille! Oddio, c'è! No, vabbè, c'è! No, vabbè, c'è! No, vabbè, ragà! Che figa! Nota dolente! Ma quanto cacchio figa! Ah, ma questa è la nuova arma, bro! Sì! È di questo! È di questo! Giuseppe! Madonna! Ti piace la spargine il zenzero? Grazie, se mi dà i permessi vi posso aiutare a potenziale? No, no, vai tranquillo, tieniti ancora a farlo! Ah, va bene, va bene! Figata! Ma, una volta finito Montespo con 10, ma è il... Cioè, avete finito praticamente salvo il mondo! No, è finito l'enferno principale! Vieni! Bello! 45.000 di vita! Posso dare questo? Oh! Buono! Oh! Devo buttare un'arma! Recicla l'arma! Non buttarle mai! Eh! 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 No! Eh! 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 Pietro! Dall'idea erbe! Che ti serve? Polvere... Ossidata! Eh! Er... Ho finito erbe e polvere... Ossidata! Oh! Ce le do io! Visto che c'era... Pulver... Io ho... Ho cambiato anche una... Una cosa! Devo messe tre danni, una velocità e una... Arrivo! Arrivo! Perfetto! E' la migliore! E anche io ho fatto questo! Eh! Dei... Come ti devo chiamare? Dei Rodar! Come vuoi! No! Dei... Ma ti serve la polvere minerale... Negra? Si! Quella si! Ciao Manuel! Ciao Esma! Tutta quella che ho! Bene! Grazie! Si! Per quello che mi hai dato non è niente! Oh! Cazzo! Ehm! Ehm! Raga! Io ho finito... Le trappole... Da terra! E a culete li metto io se non c'è gioco! Wow! Che figata! C'è tutto il 130! Ma no! C'è 106! Vabbè! Ma il piccolo è leggendario questo! Si! Quello più alto di livello! Bello! Quello che c'è di pure Klaus questo è! No! Lo hanno tutti questo! Quando sali di livello ti... Quando arriviamo in te spazio lo sblocchi! Io questo! Io questo! Ma come arrivo? Eh! Quindi qua come facciamo? Eh! 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 Devo uscire con la mia ragazza! Ruben! Ciao Chris! Ciao Petronelle! Oh ma quanti aspettiamo questa ragazza! Pietro? Eh! Quella che salita! Madonna mia! Ione! Vabbè no no! Se lo dico poi mi spammo! Cato! Cato! Sì! Sì! Eh! Freedom! Che cosa ti serve? Eh! Io ho finito... Quante gas devo farti uno stack? Allora a me mi sono rimaste 13 trappole a gas! Io ne ho 80 pronte! Però... Eh! Vabbè allora tienile! Perché io ne ho messi già parecchie comunque! Eh vabbè ma ne servono di trappole! Ora vediamo cosa è rimasto! Perché io parecchie l'ho messo! Ne avevo parecchie pure io! Ma questo era il mio 2 eh! Raga chi è... Questo sì! Raga chi hai gli aculi a terra? Io però sono al 103! Sto facendo! Che cosa ti serve per craftarli? Se volete vi posso dare il nastro e le cose! Vediamo a Freedom se c'è la 130! Io ce li ho 130 ma sono tutti azzurri! A parte che ripeto non... Quelli li usi solo per rallentare! Sono le altre che fanno lavoro! Infatti! Infatti! Beh anche i miei! A parte un 25 di Critico Viola! Anche i miei sono... Eh allora a me lo ha 130! Sì sì dai! Qualcosa in più! Allora il nastro ti serve! Spero io darcelo io a buttare il nastro! Allora portagli il nastro e... Eh il problema è che non posso salire! Ragazzi scendete! Ma di chi è il mondo? Di Pietro! Eh non so chi! Di RK! Ah! Ah ma tu non sei inscritto? Te ne passano! Te ne passano! Non credo ne devo andare! Allora ti metto... No no ne prendono le prendono! Se vai nella live mi apri... Mi piace! Ho solo duecento spago in tagliato! Mi serve lo spago in tagliato! Mi serve lo spago in tagliato! Eh sì! E' una data 100! Ok! Dimi se ti serve altro! Così ammetti quella cosa lì o di sapere non devo urlare però! L'ho preso e non mi sono accorto! Sì l'ho preso! Ma tu c'è il Nacon! Sì! Allora intanto ne ho 60 e te lo hai butto su! Poi vi faccio tutte le aree! Sì Simone dopo che ho finito se ci sei ancora ti posso mandare tranquillamente! Grazie a Esmar per l'istituzione! Oh grazie! Paolo i regali qualcosa fuori a me! Dimmi che livello sei Esmar! Vediamo se ti posso aiutare! Ragazzi non siete! Dimmi! No no vai vai! Dimmi dimmi! Dimmi dimmi! Veresti com'è un attimo a mettere le trappole alla A? Però sarà il 106! Oh! Pensavo di averle preso detto! Ah! Aspetto che Fido mi cassa le trappole! Ah! Intanto andiamo verso là! Io riesco facendo man mano! Quando vedo che si ferma! Putto un altro venti! Uh! Ma quanti trappole si facendo? Ah! Mi sa che mi devi creare qualche sbalzatore! C'è il pugno! E qui lì vi ho già pronti! Ragazzi il microfono è troppo alto diciamolo! Mettiamone intanto 80 di questi! Antonella! Ora sto portando Montesfago 10! Che fra un po' la faremo! Ah! Ma sono proprio! Sono scritto! Sono scritto! Grazie! Di niente! Devo fare anche le dinamo? No le dinamo no! Mi la dico! Sì! È il massimo! Puoi avere! Eh! Piano piano sali qua! Oh! Puoi portarla di là fuoco! Oh figo! È il 103! Eh! Ciao Flower! No! Adesso non si può però! Perché sto impostando Montesfago 10! Quando ho finito vi... Vi avviso io! Troppo basso! In che senso è troppo basso? Ah! 41! Va benissimo! Mi devi dire che... È crazy! Io ci seguo in DRK! Voglio vedere cosa fa! No no! Fermo! 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 Vado a metterlo uno sbalsatore! Sbalsatore! Che così ti butto indietro! Dai ragà rompiamo il muro veloci! Anche se non ho i permessi! Ciao! Redel Gaming! Benvenuto! Ciao Gaming Troll! Ciao Aldo! Eeeh! Vabbè qua lascia questa dai ormai! Qua a terra non ne metti una sbalzatrice qua! Io avevo fatto così! Dove? Qua! Lo sbalzatore, un pugno e una scala così avevo messo io! E mi dicono bello! Nooo! Perché? Questa pedana viene rotta dalla... No no! No no! La meteora cade qua! No no! Non si rompe! No no! Quante? Oddio! 500.000 di P! Nope! Cioè se io rimango qua senza fare niente finisco di belli! Alza il microfono subito! Grazie ragazzi! Eh mi hanno detto di abbalzarlo! Sentite bene adesso? Dipende... Ah non c'è il più forte! Di rango! Dipende il livello! Ah il livello! Il più... Il più... Un poco più basso appartenere è DRK! Quello che ce n'ha dato di più! Quello che ce n'ha dato di più! Non è... DRK ma come fa di avere quello standart? Dove si stendarlo? Perché ho completato la nuova missione di Frostmite! Ah bello! Vabbè io... Non completo quasi niente! Oh! Oh! Ma ste cose fanno male! Eh si! Ti uccide! E uccidono! Vabbè... Ma pure a voi uccidono! Fuora che ho 38.000 di vita! Mi sento un pro! E tu qua... Vabbè DRK poi c'è 333.000 di vita! Cosa devo dire? Quindi no no no! C'è confronto a lui non c'è nessuno! Quindi no 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 no! Sia è smarciato che ti posso aiutare! Mi... Mi devi dire però l'eroe così! Ficata si vede il mio nome... No! E' bellissimo! E' bellissimo! Bear 120! Freedom 120! Claudia Claudette 20! 100... 100 di differenza che sarà mai! No no no! Da DRK si vede così! Ma che sarà mai! Devi solo giocare! Ma sono giusto un po' così! Allora qua io ho finito! Questa dovrebbe essere a busco! Questo è per te! Questo è per te! Questo è per te! Questo è per te! Guarda qua DRK ha 700 iscritti! Sì madonna! GG per lui! In... Tre settimane neanche! Eh... DRK! Dimmi! Chiama Pietro! Ma... Che cosa fa l'attivacella? Che premi en... Che cosa di... Che cosa fa? Oh che sta roba! Ma io non premo en... Non gioco da playstation! No 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 no! Non lo so! Che sta roba! Nel campo lente! Praticamente i zombie quando entrano Si muoveranno... Ah buono! Ah figlio! Da mettere sotto le trappole! Frido! Guarda qua! E? Eh... Atte come sono cercate! Le dinamo a muro! Come sono settate? Cool perk? Sì! Eh amici anche me le devi craftare! Ti do tutto quello che vuole! Posso dare... Cessa! Uno stack e mezzo... Simone! Quindi 250! Madonna mia! Per la 700 di urban! Ma che sarà mai 250! Per me non è niente proprio! Che cosa? Lucina! Hai santa! Quei 250! Ah ah! Ma... Le ha arrugginito! Ma Freddome non ce l'hai il canale YouTube? No! Ma tu lo devi fare fra! Sai... Cioè... Se è così forte diventi subito famoso! Iiii... Ce ne sono già tanti i canali! Non servono anni! E che fa? Non ha tempo Freddome di staccia! Ma siete quasi pare al re Klaus eh voi? Sì praticamente sì! Livello? No no no! C'è di potenza! È da 1000 comunque! Lui è al 130 se mi fado errato! Mamma mia! Ok qua vanno tutti i gas! Ti posso seguire? Sì sì! Va bene Simone! sono finiti... Ci sono finiti! Sì ci sono finiti! E le troppole a gas! Vabbè poi farei un visti... Guarda p, ho visto che i chiari... Guarda p, ho visto che è riparando così tanto per la... Montespago 10 eh? Mamma mia! Senza sparare eh? Senza sparare? Eh sì! Non dobbiamo sparare! però se arrivano gli smasher che facciamo dobbiamo tirarlo dentro le trappi a quelli bisogno sparare è ovvio ma perché di pietro e bianco il nome vale per voi la scala fosse buono non lo so prima del ciclo e della l'arma più forte del gioco secondo voi come assalto beh io mi trovo di donare cilom me l'ha regalato frido è fortissima nella regala raggiungiamo a fare trappole a gas trappole a gas io sono senza erbe e ho solo 84 di ossidiana di minerale minerale a solo ci scusa il minerale ossidato per le dinamo le c'è le fibre a 2000 viti e bulloni 1800 bastano le cose le parti madonna mia ragazzo e altro le batterie ti servono a batteria 2300 sei online e smart e poi che a tu serve però mi potresti regalare che ne vedo sei manuele le fibre o citata poi dovrebbe bastarmi dai adesso mi metto ti bastano citata allora allora ti invito ciao vincenzo ciao real claudio mi guarda se mi chiamo un muscolo denaro e devo fare c'è un ragazzo che io devo dare una banca lui ma benissimo grazie mille ma poi ci vediamo certo appena sono libero ma poi hai bisogno di qualcosa scrivi in chat va benissimo grazie mille che faccio a tutti grazie a te ciao arrivederci ciao 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 arrivo 40 nel modo sulle dinamo prenditi pure questo già questo non so se mi hai aggiunto esmar grazie ramanas prendi queste freedom no carro è difficile che faccio live attorno questi viti bulloni trappole a gas freedom e adesso le metto ecco un'altra limitazione che mi fa girare le scatole su di venti le venti cose che puoi fare e basta l'ho potuto che aspettare fammene mettere la ragazza sta vedendo un po' come saremo a te spago secondo me la metterà noi limitata speriamo e dopo dovrebbero fare il sistema che io do un colpo e si spacca la parete e la culi a terra pure freedom francesco che ho detto quando ho finito ti invito non ho sempre già pronti e vabbè ma ti devo votare i materiali ai materiali sì qualcosa c'è assi di legno lo scorcio me lo hai già dato prima e tieni altri 200 e lo 400 dai assi di legno ok ma si è 4 prendi di freedom sono a terra e adesso no gg perché devo solo portare montespa c'è solo devo portare montespa senza sparare ma ne manca una pietro arrivo no da là arrivano i lanciatori qua ne devi mettere uno allora qua sta a posto che sei esmart certo real però erano molto poche molto ma molto poche qua vediamo c'è devo trovare un sacco di cappole a freedom mancano due sbalzatori eh due qua e due di danza se vi serve ossidata qualcosa ne ho ancora anch'io ossidata io ne ho 64 quindi sono 30 trappole gas 40 che ho già fatto arriviamo al 70 ma ora che non basti se vi serve ferro ve lo posso portare ancora io esmart c'hai il microfono ah c'hai dom altre troppo le dargli a muro allora mi auguro devo farli guarda nella live car ma guarda e come si chiama la trappole a gas pure 40 già pronte guarda dove sono che non è tutto il precipice allora scarica massimo ok facciamo un po' di dati a muro queste sono punti in pet le hanno no antonio al momento no perché sto portando montespago adesso devo fare montespago 10 senza sparare raga allora e smart ti va bene un ratatata e un spargi gen 0 106 tutti e due? boh oh senta cosa usi non lo so vedo su cosa mi puoi dare eh questo ti posso dare ti va bene? qui ok metti su questa parete qui e qua metti uno sbalzatore e dopo su quelle tre qua metti tre tardi a muro sai l'eroe quello dell'halloween è fortissimo guarda tatat fan the master grazie aspetta che c'è lo spazio ah sono finite i tardi a muro allora aspetta che ne ho 15 intanto massimo rilascia eh la madonna no franco oggi no però in che senso come mai non vuoi sparare? eh no voglio fare un video è una sfida è una sfida bravo sì ma credo che sia quasi impossibile farla senza sparare vabbè dai se poi non ci riusciamo spariamo ma Simone Mazza Simone Mazza non è Enzo? non lo so non mi ricordo se ci sei Simone scrivi in chat che facciamo lo scambio adesso è proprio il dinamo a muro dinamo a muro devo fare anche quella aspetta che ne metto 10 intanto 6 7 ah ok vabbè ho finito le efficienti tengo a precisare come perché non mi parevano le efficienti cos'è che ho raccolto scusa mi devo dire che ti servivano le efficienti sono qua le efficienti da freedom e smart ci sei mi senti? ti serve? e adesso intanto le faccio voi ci vediamo più tardi sai che riciclo queste qua però basta con le date a muro grazie mi servono più i pavimenti e le dinamo a muro sono soprattutto ok ciao hero mix no non è lusino scommessa è che vorrei fare moltesfago 10 senza sparare certo che lo faccio Antonio allora queste qua intanto te le butto giù se dopo se non lo faccio se ci sei Manuel mandami la richiesta ah intanto vado a mettere il trap lo a cassa la prima che mi dimentico è un'altra ma è un'altra vabbè dai qua è a posto dai il tunnel sotto bisogna mettere due cose raga ma aprite la minimappa e guardate sembra una mappa di cos'è quella roba che rende su c? eh non lo so secondo me è mattone secondo me è il mattone no dovrebbe essere più chiaro il mattone che cosa mi può craftare? le dinamo ciao Antonio, ciao Crixie, ciao Giulio rilascia, no, ricicla comunque è freedom, se ci sono dei materiali dimmelo vado a vedere dove servono dai qua potenziamo tutto? sì sì tanto non ci manca il trap sì sì l'ho preso io l'altro allora qua è tutto a posto se vi serve poi ve lo porto no io ne ho ancora duemila qua così è una spot eeeh vediamo e però si cadono sopra? però si cadono sopra? ma posso o non cadere sopra? ah è vero, si hai ragione vabbè qua non serve dai no Andrea stiamo facendo eeeh la faremo adesso real la catteli dovevo mettergli due strutture dietro vi rinforzo e dopo lasciamo questo Manuel se ci sei scrivi in chat io spero solo che non mi crascio la live durante Montespaio 10 non chiamarla per favore abbassi la risoluzione la metti a no ma non è per quello è perchè lì è OBS che fai capricci si blocca proprio l'OBS eeeh no perchè se te lo fa adesso immaginati quando avrai tipo mille persone in live ok? stai presente come ti spiega ma non è quel il problema non lo so che cosa è eh comunque mangia risorse eeeh qua devi fare altre dinamo dardi pavimenti freedom oh ok intanto volevo arrivare a shum a fare un centinaio di dinamo perchè sono caduto perchè qua arriva la cosa eh perchè stavo stavamo creando qui raga infatti poi dopo l'ho saltata va bene Nico ciao il pantagamer ahhh che 40 sono fatta dai però le palme le lasciamo che sono belle da vedere ma io ho tirato via tutti da tutti i mondi le palme mi piacciono lasciamo solo no pietra a legno pietra a legno era il primo? si 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 eeeh è tutto coperto no è tavolaccia prima pavimenti le pareti in ferro non è tavolaccia prima primo? no? no? oh non mi ricordo so che tu pietra a legno poi va la ruota va bene una dei due sarebbe senza senso io ho tappezzato tutto ma dai e sopra tutte tutte frappole ma quante settore hai limitate? la sono arrivato al limite quasi mi pare che ne ho cento ancora ad aspettare e 60 dinamo sono pronte eeeh fai un po' di tutto freedom per favore ah ho finito di nuovo le efficienti ah dai ne puoi dare tutto io ce le do quanti ti servono di non dipende da cosa devo fare ok mi devi aggiungere Emanuele e scrivere che cosa volevi eh adesso no felice perchè stiamo facendo lo scudo 10 di Montesprago quant'è te ne porto? 100? 200? vabbè quante trappole mancano ancora? eh parecchie gas beh per le gas non si e ora un po' di poto gas io ne posso fare altre 30 perchè dopo ho finito di nuovo la polvere ossidata allora aspetta che metto in fatto qui certo dopo si ma non tranquillamente flower posso darti erbe e pancetta che ti posso dare per l'erbe e la pancetta? così qui ti guarda qua è da scavare un po' di ossidata quindi qua è da scavare un po' di ossidata sì ho 260 e chi le serve? la serve a voi? si serve a me prendo 200 e cosa ti serviva? freedom? le efficienti? quante? efficienti io sono a zero se devo fare allora dardi ne vuole due ogni trappola bastano 100 dardi e 100 di quelli che ne lasciate 111 dar freedom va bene prendo 200 vediamo un po' prendili freedom ok ti do aspetta che ti do le dinamo che ne ho da 70 pronte brome serve carbone e scaglia e alimentari scaglia buia ma non ne ho da scambiare alimentari nemmeno adesso sto facendo un po di gas più o meno quanti gas non ne faccio in più no non ho portato persino a farmare no raga non c'è posto farmare poi dove negli alberi farmare c'è da farmare e dici come andrà questa questo monte di scudo pensaci tu flower che cosa vuoi ovviamente armi e poi mi dice dai no ma non ti posso aggiungere io è lo stesso nome del canale ma donna anche questo qualcuno dammi quale che hai qualcuno un po di spago in tagliato però io lo do io quanto te ne serve per far dardi sono tre ogni dardo ecco te ne basta 138 il silo e vediamo di fare bastare mettiamo subito all'armi flower am armi ti posso dare ti faccio dare il progetto ok vado a inserire queste adesso faccio venti dardi dopo faccio venti di non facciamo un giro vedere se manca altra roba eh sì vado a vedere vado nel bunker un po di materiale che mi avete dato ti devo dare un sacco di trappole pure allora poi a posto ragazzi stiamo quasi per startare ok ma non è male dai l'h l'h era tutto a posto sì 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 aspetta che andiamo a mettere trappole ah ah ecco ok perché avete fatto legno qua? ah era già da prima vabbè arma è allora questa è a posto grazie titanic vediamo dentro qua con me dopo devo uscire e mettermi il costruttore eh sì pure io così metto ah mancano tutti i dardi a muro che sto facendo ma è qua ti conviene dardo a muro e poi dino e metti le tue dai io tu metti i dardi e io continuo giù mancano anche le gas oh è vero sì sì ciao flower arrivo ah raga vi serve ferro ve lo troppo qua no non vi serve dai poi ricordami che ti devo dare l'elocidata ma vai tranquillo tanto noi la farmiamo sempre mi ha fatto sta scala qua io per salire arrivo lì eh flower quanto hai di roba? ehm me la guardo oh è qua dentro oh è lei madonna mettimi sta trappola maledetta ma ti serve anche qualcos'altro oh me l'ho chiuderezza per la gas grazie titanic ciao pasquale e le aculei nonni batterie 24 adesso frido mi manderà a quel paese no no allora metto in produzione 20 trappoli a gas metto in produzione aspetta dharma ti serve? eh bravo si le trappole a gas polvere nero polvere nero polvere nero polvere nero mi servirebbe a me eh se ti serve ti entra allora che io ne ho siamo arrivati al limite delle strutture pensavo ne vivi di più allora facciamo una cosa veramente? non mi fa più costruire sono? si nastro adesivo si faccio questo ok tu volevi il bulldozer a me no a me no a me no ehm prido dammi quale che hai fatto di trappola a gas fa 150 vado a mettere nel tunnel il bulldozer ne fa 66 io ti piace il cigno io ti piace io ti piace io ti piace io ti piace il cigno ti piacerebbe più forte secondo me ti piace? che l'hai mai usato? che dobbiamo togliere? 3 3 3 3 3 4 10 anche qua vabbè in fondo non serve mettere la trappola 34 di pancetta no su quella la in fondo no aspetta dar tu vuole dare non mi fa costruire ehm no tieni ok io non la uso mai tieni tu ok Anconio però non adesso se mi porti poi delle r ti darò oggi no tranquillo ma ripeto frida un po' e altre tappu largassi e aculei un attimo dimmi cosa servirebbero i fiori? I fiori non li ho mai usati A portarli alle ragazze Ma allora c'è la schiena di ragazza Fredo ma come facciamo? Dovemmo portare in qualche struttura Allora a me però è il 120 E' il Titanic Mi segna 346 Eh manca a me Mi ha messo così tanta roba 200 di fiori questo è male Vabbè e niente facciamo il giro da sotto C'ho un bocchino Sarebbero Le gas Grazie 242 Ok Ah le gas Quelle è tu? Beh no Ah le devi fare ancora Sto facendo gli acuri adesso Buonanotte Ti dobbiamo una cosa Vieni Un attimo la sto cercando Tieni Grazie mille 338 strutture Ti ma non si fa costruire Eh Senza Potrebbe avere anche qualche trappola per la mia base Vabbè ma qua è posto Ma queste sono troppo alte per te Flower No hanno 82 Tieni Da voglio una Oh grazie Anzi no Ho avuto da un riciclare Tieni Flower Sono un po' bascino E la E la Madonna Sono a posto dai Ok Grazie Ciao Adesso mi porti sempre qua la roba Qua avete messo Eh devo andare ancora in questo tunnel A mettere le trappole a gas Freedom Dove? Qua sotto Guarda che torno giù Ah boom Cioè non fa più buttare veramente Qua freedom mi vedi? Sì sì sono Ah è vero Eh Ne ho 14 Aspetta che le metto Una Due Andrò Daniele adesso non posso Ciao DragonX DragonX No DragonX Si chiama È vero qua devi metterla perché arrivano I lancatori pastari Io vorrei che Mi sono dimenticato da qualche parte Dei trappoli raga Non è bello che ci dividiamo Così vediamo un po' meglio Eh facciamoci il giro di tutte le strutture Una alla volta Guardiamo se manca una volta Dai dai facciamo così Allora Fidon facciamoci il giro insieme Dai qua su siamo in due Perché Mettono altri eventi Trappoli a gas in produzione Così non ci sa mai Andiamo a fare il giro Andiamo a fare il giro Ti prendi i bulloni Lo devi prendere anche per noi No? Qua lo vedi c'ha preso Va bene Sky Angel Devi prendere la fuori Qua cosa manca? No Non è potenziato Ma dovremmo essere a posto Sì qua si è tutto a posto Anche se qua No vabbè dai Qua c'è Qua basta mettergli il campo lento Qui avete buttato 12 trappoli a gas Sky Angel Sul Discord Va bene Dove sono 12 trappoli a gas? Eh le ho prese io adesso Le ho al 130 Non lì Nella I Adesso arrivo Le ho messe giù E non ci siamo ancora Dietro le ho prese Sì adesso ve le ho porto io 130 Qua spero che sia tutto Dai mi fai un favore Dimmi Eh da Deve sono? Ah eccole Siccome c'è Sky Angel Che vuole fare una Vuole collaborare Mi puoi mettere il link mio di Discord Sulla chat Che non lo so fare Ma del Del gruppo? O proprio del tuo pericolo? No di quello privato però Mio Ma poi mi spieghi come si fa Ma come hai fatto? Sare Cosa serve adesso di trappoli? Andiamo a fare un giro Freedom Perché io Ho finito di nuovo Se dovesse servire Sia lo spago Che i bulloni Sky Angel Adesso Dar Ti impierà Sulla chat Il mio link Ok? Scusami Da Sento questo No è tranquillo Il problema è che non posso prendere il tuo link Posso spammare il mio Ti faccio così Ti spammo quello del gruppo Eh va bene Eh va bene dai Ascolta cosa facciamo? Quello dentro sul buco lo distruggiamo così recuperiamo strutture? Ma sì Ma se Ma dobbiamo buildare ancora? Perché da qua Non so se attaccano Allora il Anche adesso Anche adesso Simone se vuoi Come si chiama questo? Il G Non so se lo attaccano da sud Non credo Ma se attaccano da sud è completamente scoperto Freedom Ma è fattuto a posto qua Aspetta che qua ci mettono No non mettere Non mettere che qua Non so se dobbiamo distruggere tutto Eh vabbè Tanto non serve Freedom Qua che dici? Non metto niente? Ah lì giù Vengono laggiù Sì No Non dovrebbero più attaccarlo a questo Speriamo A me in tutti i Montespali Mi hanno attaccato una volta solo a questo Eh ha avuto pure Speramente Eh infatti Sky Angel Questo è il suo E il mio Discord Ok Quando mi vuoi scrivere Io ci sono Qua o distruggiamo tutto Ah perché dobbiamo distruggere? Freedom Tanto non dobbiamo costruire Eh vabbè Lo so Ma se Quell'amplificatore lì Lo attaccano da sud È completamente scoperto Non dovrebbero attaccarlo da sud Perché se non sbaglio Quello Quello vanno solo da ovest Infatti Non ho mai visto Che è stato da sud Però dovrebbe essere a posto Ah aspetta Vediamo all'inizio Il problema è che Sai che se rompono un muro Non possiamo costruirlo Anche qua non serve Non vengono più da qua No non buttare più Quasi più Ah raga Qui è Ecco qua Era E qua manca tutto E qua che faccio? Qua che faccio? E qua vanno tutti Acquilli a terra Gas E dinamo E' dardy E dinamo Freedom Mi servono giusto Ho una decina di Acquilli Ho finito lo spago intrezzato Lo spago? Intrecciato Intrecciato Intrecciato? Intagliato Intrecciato aspetta Eh l'ho finito anche io Intagliato No? Intrecciato Vado a prenderlo io Vai Darsa Me lo puoi pestare tu? Che so Poi Ti faccio mi porti Servono anche gas Grazie Sky Angels Molto gentile E allora ho finito anche Vitti e Bulloni Ah credo io Cosa ti serve? Vitti e Bulloni Solo Vitti e Bulloni Eh Ti resta ancora quello che mi avete dato prima Grazie per l'iscrizione raga Poi se ti Vuoi gli altri ci sono eh Mettiamo tutto gas Madonna 90 90 erbe Vuol dire Vuol dire in altre 12 trappole Sì Ragazzi fra un po' faremo Monte Spago 10 ok? Grazie Tar E guarda E guarda Certo Va bene Sky Angel Va bene Sky Angel Grazie Minnetto Freedom c'è Sì 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 ci sono ci sono Dove siete? Uno due tre Quattro Cinque Sì Sette 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 Freedom Mancano Novi aculi Novi aculi Novi aculi Uno due Ci fa Vabbè ormai questi son bassi Però Più o meno tutte le armi A portare di volta A fondatorio 15 Aspetta 15 dinamo a muro Gli aculi Le ho messe Dinamo E nove Gas Gas ne ho già Più di 30 Ah 10 un toro E dammi le 30 Le 30 Dai Che vedo che le mancano di più Massimo Via Din chat Date Pietro Se c'è qualcosa Grazie ninja Che ci può Grazie Che può venire dopo Per la difesa Così abbiamo il bonus Sentite No Non ho sentito Din chat Se c'è qualcuno Al 100 Oppure più alto Che ci vuole venire Ad aiutare dopo Perché Così abbiamo il bonus Grazie Danny Grazie Sky Angel Ciao Ravens Ragazzi Chi è di livello alto Che ci può aiutare A Montespago Anche se A dire la verità Non dobbiamo sparare Quindi Penso Che le trappole Saranno Officenti Il bonus Anche se Ci serve il bonus Però Se pensare qualcuno Darci una mano Bastano 20 dinamo Sì Perché ho finito ancora Di chi è più grande Madonna Quanta roba Poi Vabbè Poi quando Dopo ti do Gli altri viti Ti immagini Mi mettono L'opzione Che dice Ricicla Montespago Ti puoi riciclare Tutta la roba 1 2 3 4 Mancano 8 Trappole a gas Freedom 8 Trappole a gas Grazie Mi servono Viti e bulloni E erbe Allora Ragazzi Voi che state in chat Mi fate un favore Vedete il canale Di skyangel09 Vi potete iscrivere Per favore Se vi siete iscritti Potete iscrivere Mi sono iscritti In chat Allora Aspetta Che ti do Avete bulloni E anche erbe Mi servono Per fare le gas Anche un po' D'erbe Certo Freedom Perfetto Ragazzi Per favore Al canale Di Skyangel09 Vi potete iscrivere E chi si è iscritto Mi può scrivere In chat Mi sono iscritto A cui li ho messi Quagli Grazie ragazzi Poi vabbè Ovviamente Lo farò ogni giorno Skyangel Perché Adesso Non siamo in molti Ok Da culi Da terra Ok Ma io guarda Penso che le trappole Faranno tutto Io spero Che facciano tutto Ok Ma è impossibile È impossibile È molto rapidamente È molto rapidamente Sì Ragazzi Dobbiamo solo Prendere i popcorn Alexa Che ore sono? Ah Le trappole al gas Sono le fatte Le sto facendo Ah ecco Mi sembrava strano Angel Ti ho portato Anch'io Iscritti Ok Ovviamente Lo farò ogni giorno Così In modo tale Che tutti Perché può essere Che qualcuno Oggi non c'è Domani c'è Mettiamo Mettiamo Un'altra 20 No Danny No Danny Adesso devo passare Stavo guardando La chat Se Giuseppe Ti devi iscrivere Il canale Di Aspetta Skyangel 09 Se mi fai Questo favore Giuseppe Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi Iscrivetevi In chat Mi sono iscritto Ok Ci si Sky Angel Allora va bene Freedom Secondo te Spero di si Dar ci si Dar Ragazzi C'è qualcuno Di livello alto Che ci può dare una mano Montespago Montespago 10 84 Un po' poco Real Scusami Beh raga Lo sai che vi dico Diciamo Io direi di saltarla No no Aspetta Aspetta Devo cambiare Il costruzione Ok Allora Sky Angel Se ci sei Scusami raga Sky Angel Se ci sei Mi puoi iscrivere Per favore Che è successo? Non so Se hai visto Ti ho portato Un po' Di scritti Vado 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 Anche Nei prossimi giorni Pure io vado Cambia il Metto solo il bonus Delle trappole Il leader Ma a me non si vede Ma a me non si vede Se è bugato Chi c'è il leader? Se radar Te lo do a te Se lo do a te Poi tu prova a darlo a Pietro Se tu lo do a dar Perché non me lo fa dare a lui Simone Se hai voglia di attendere 20 minuti Grazie Lai Come ti chiami? Non mi ricordo Non me lo fa dare Allora dobbiamo Poi che proviamo a uscire tutti Dopo di ristarti tu? Ragazzi Comunque Mi fate un altro favore Chi si è iscritto nel canale Di Sky Angel Può andare nel suo canale Iscrivermi Da parte di dire Kpapunicel Però non so Se lui è in live Fammi vedere No non stavo in live No non stavo in live Va bene raga dai Non fa niente Ah grande Rams Se di livello 100 Qual è il tuo ID? Arrivo Dammi il tuo ID Che ti invito Dai Arrivo Pietro Ciao Grazie per i like Ciao Sei Simone vero? Si Ok Mi dicevi che materiali volevi Non mi ricordavo Le lucide Ok giusto Abbiamo detto per Quante stacca hai? Aspetta Ne ho Mi hai detto 700 no? Di Hermes Eh si Proprio ora L'ho scambiato Con il mio amico Abbiamo detto Che ti vanno bene No Non stack Ne ho 914 Allora ti faccio Vediamo un po' Quante lucido Andiamo Ma comunque ieri mi ha fatto uscire dalla missione Eh non ci ho mai detto Però era tardi Quindi sono dovuto andare in più Allora ti faccio Già No Allora ti faccio Eh non si Allora ti faccio Pl 되는 Does grazie Allora Allora Quanto hai detto che hai? 900? Ci sei? Mi senti? Si Dicevo quanto hai detto che ne hai? 900? Ci sei? Ci sei? Mi senti? Aspetta Cioè droppare ma vediamo quante ne hai Ne hai dati a 200 Si Cosa ti dico quando ti posso dare io? 1 Quindi Quattro Sei Otto 9 14 Ok Ti vanno bene 400 di luci eh? Ok Oppure quante efficienti hai? Cioè mi puoi dare Ehm efficienti Non ho già date prima Pietro Ok Allora ti faccio 100 di efficienti e 250 di lucida Quante lucida? 250 Ehm Allora Ok Ok I'm back again like Shackleton I'm Bizarro like Bizarro and Magellan Word to the gamma Ok grazie Ok Ma domani mi puoi portare a un monte? Si si ma anche stasera domani Ho finito con Pietro se vuoi si Ehm Vabbè Grazie Ciao 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 Mi regaleresti qualcosa? Mi regaleresti qualcosa? Mi regalesti Mi regalesti Mi regalesti Mi regalesti Grazie a tutti 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 No mi ha curato il ragazzo Ah ok Mi è sembrato che vedo No mi è sembrato che non c'è un da fare niente Saranno tutti Io non è sembrato che non c'è un da fare niente 30% più velocemente Più il bonus No mi è sembrato che non c'è un da fare niente Ma non c'è un da fare niente E' un da fare niente E' un da fare i permessi No perché non c'è un da fare niente No perché non c'è un da fare niente? I lanciatori E un da fare niente No he scar comporta하지 atha ele mi hai sparato a quello che ha sparato, il garantito non c'è un da fare niente Grazie a tutti Quella abilità non vuol dire sparare Eh vabbè, quella abilità sì, dai Una spada? Eh no, non è un'abilità Eh però ci sono i lanciatori Ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale di SkyAngel09 E iscrivetevi in chat Mi sono iscritto, dai ragazzi No, mi sono bugato Eh che palle Eh la madonna Tu questo vanno fai? Però ti ho tolto, hai visto? Uh, l'ha uccisa l'esca Eh, c'è la pochissima vita Dai, però ho una base Sopra, cazzo Eh no Qua No, non c'è dirlo un video di aculino qua Però se prendo Se trovo una di quei cosi che ti butta in aria Io vado a vedere Se trovo un geyser Mi faccio buttare Eh sì, l'ho trovato Però non so se mi butta No, è troppo lontano Ragazzi, arriva un'altra Con le gambe forte Eh no, niente Non ce la fa Non ce la faccio Vabbè dai Ormai è passata Ragazzi, stiamo arrivati a 700 iscritti Grazie mille Guardate il super uccide, guarda Guarda Dai, uno sputto di vita Grande, ragazzi, grazie Sì qua, tutti pippo Grazie, spy angel Dai, questa è fatta Però la prossima ci serve Eh, la prossima dovrebbe essere la La I La D Sì 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 Mettete 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 No, dal lato Dal lato Dio Quella la odio Quella brutta Che neanche tenga Quella brutta, sì Eh, che dite, raga Eh, però attacco dal fondo La pariamo solo con le trappole Dal fondo, sì Lo spune, ho messo bene Fai, che male Fai M3 mele prime La prima Poi le mettete qua lì dietro Ragazzi, c'è la cura? Adesso metto anche un coso Un focolaio da qualche parte Ah, Frido, ma visto che abbiamo fatto bene a mettere qua le trappole, allora No, 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 sì C'è stato il tiro per l'arrivata Mettete le basi, tutto Mettetene una qua Arrivo Perché passeranno dentro Dobbiamo stare più indietro possibile Così il lanciatore non roccia le balli No, non ci credo Vengono da là Da ovest Va bene, intanto ci sono le trappole Non passano Come? No, guarda da dove passano quelli Non ce l'ho fatto pure Da dove sono i miei Ciao Ciro Grazie Mettete due trappole qua sopra Per fortuna, Freedom Per fortuna Mettete due trappole qua Mettete due trappole qua, ragazzi Dove? Eh, io non ce li ho, le ho fatte tutta a Freedom Metti i gas Tutti sono rossi, non me le fa mettere Dai, permessi Dai, permessi Aspetta Vai, vai, ora li puoi mettere Però gli smasher arrivano Beh, gli smasher si Eh, come facciamo Nooo No, regà Regà, tu non può sparare però Guardi, ho usato l'abilità Dagli i permessi così Mettete Ah, le ho messi Le torrete possono essere considerate abilità Sì, sì, ma non fanno niente Eh, vabbè Metto il campo lento L'ho messo là Eh, però lì stanno cercando di rompere Non muore qua Guarda, qua stanno cercando di rompere quest'altro Come hanno fatto da me Nooo Dovete sparare Eh, tre, perché sparato? Devi sparare Allora, mettono un campo lento qua Grazie, Sky Angel Nel tunnel, bravo, lì Picconate, picconate, picconate Eh, ma lo smash come lo piccoli Che? Mi do gatto Guarda Sì, sì, bravo Metti lì, guarda Che facciamo, ragà L'utiliamo Metti le gas Metti le gas Mi facciamo, ragà Metti le gas Mi tolgono un bot Sono 600 Che facciamo, ragazzi? Niente Ce lo facciamo così Eh, ma I smash rompono tutto Romperanno No, le parirsi Non mi importa È bene Nooo Ha preso danno Eh, vabbè, pazienza Eh, vabbè Va bene Va bene se rompono Così ci danno le possibilità Di build arco Eh Dai Madonna che botte Lo finisce le trappole Lo sta finendo No, le parirsi È morto Ci sono altri buchi Dove posso mettere Trappole No Eh, no Però lì Tirano il pugno qua No, mi piace Che vogliano rompere No, no, no Ripara, ripara, ripara Mi hanno rotto anche sotto Me l'ha rotto anche il pavimento Certo, Pasquale Domani sì Come fa lo smash A so farire vibra Delle trappole a 130 Eh, ha più Tanto adesso muore Mi dettagli una trappola sotto Eh, ragazzi Per me questo è il punto più trittico Eh Sì, questa qua sì Da E meno male che ci hanno attaccato da qua Era meglio dal nord sinceramente Beh, sì Era la più facile È morto? Eh È morto o no Ma che botte Grazie, ragazzi Grazie per gli auguri Ragazzi, mi raccomando Iscrivetevi al canale Di Sky Angel E scrivetemi sotto Qua in chat Mi sono iscritto Dai, che Quanto manca 300 Vado a mettere un altro campo lento Lo metto sotto O davanti sul tunnel? No, mettilo lì Dove sta rompendo Dentro il tunnel Qua, qua, viene 3 secondi 2, 1 Perché è lì che volevano rompere Io l'ho messo dall'altra parte No, qua non lo buttare Pietro Qua non serve niente No, non serve niente Abbiamo chiesto tanto Grazie Grazie Gesù Grazie per le istruzioni Raga Ha chiesto se lo aiutiamo a fare Valar Guta 9 Io lo aiuterò Sì, è sicuramente Vado a Guta si può Sì, sì Io la 9 e 10 L'ho fatta da sola Ho messo le trampe No, ma anch'io Sì, sono arrivato Ehi, solo adesso Doveva finire Ma dai Ragazzi, per affamare Non saranno le armi No, no L'iccone è abilità No, no, no Però con lui sono morto Vabbè, io Vabbè, io fado Mentre Dai, 81 L'abbiamo fatta Dai, fanno 70 Per tanto Adesso Allora Hanno attaccato quello O attaccano La C Che lagata Ah, ecco cos'era quel verde Erano tutte le tratte Eh, lo stop Sky Angel Ma Guarda che adesso Te lo chiederanno sempre 9, dai L'abbiamo fatta 3, 2, 1 La E Ok Dai Come hai messo la E Vediamo Benissimo Quella è il Dimmi che attaccano da Nord Non da su È da Est E Nord Non è Comunque sì, è quella sotto Grazie mille Sky Angel Comunque Ho sbagliato parla No, vengono Vengono puntati sotto Quindi Vengono puntati sotto Gesù Praticamente Non stiamo usando armi Non stiamo sparando con le armi Ma solo con le abilità Sentite io vado sotto Spago 10 Perché tanto questi verranno puntati sotto Quindi la base Buono questo Per fortuna Sì, questo è uno spazio Io lo metto sopra 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 Mettetene uno anche sullo spawn Lì dove Sopra Quello piccolino Bravo Sopra Sono caduto Per vedere Lascia Quello lì Mettilo Sopra Sì Flower L'ho preso Sopra 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 Mettete un campo lento Se ci avete Aiaiaia Madonna che Mi faccio uccidere Dai Bastardo Sopra Ehm No no Fa Sopra Sopra Dovevi fare Frostknife Pietro dove sei? Io sono qui A far vedere A gli iscritti Cosa sta succedendo Ah no Potevi mettere La base Sopra Lo spon Di quello che abbiamo fatto Mi tiri Su Freedom Per favore Lo so The speak Ma una variazione di programma scusami eh, ci spicco Pietro, mi chiedi su un attimo eh, niente no, una sopravvissuto come ti sia permesso sai il lanciatore sarà questa è 5 minuti ma non mi ricordo quanto andate ha detto che ci sono 5 o 6 5 o 5 sì uno è sopra, sta rompendo, bastardo quello con le abbi vabbè raga intanto mi apre una cassa ultra di lusso vediamo cosa ti dà niente l'ultima base sullo spawn per favore mi avevo già messa no, non ti prego mi fai perdere sono le mosche che passano sei ondate? ah, sei, dicono in chat su cosa? su questa? su un moscone caricali Pietro e buttali sotto moriranno tranquillamente nelle trappole no, quello con le mosche bravo no, devi rischiare la tua vita per uno zombie no, per forza ahia, le abbi madonna quanto tolgono le abbi sono i lanciatori da sotto che li lanciano grazie eh sì, li vedi? ti potevo costruire lì no, non ce la fa buttarlo in alto lo butta però poi cade di nuovo vediamo no, questi no, non c'è che le sparano le torrette buono, buono le torrette io dico, da dove li esce cosi zombie? beh, no, li crea l'uno, li crea dal braccio con il fulme, vedi? dalle gambe le esce no, dal braccio ciao, giova io vado a mettere un altro campolino su la... su lo scom però le torrette lo fanno male sinistra sta entrando quel... no, sinistra, destra sta entrando quel punto no, non è entrato ciao, Mario non fa niente ciao, Antonio benvenuto al canale questo? da dove è saltato fuori? ragazzi, mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi lasciate un bel like che ora dovevi andare al cinema, Pietro? ma per andare dentro la strada metropolitana vedi, allora devi andare dritto e girare a testa dov'è? ma ecco allora, devi andare a testa oh e via e via e via da qua non ti vogliamo spume e vabbè, dai grazie grazie grazie, Antonio molto gentile a che ora dovevi andare? ragazzi, ma sta te io fra un po' come finisce? mi dispiace che deve andare ehi ciao no, bastardo kick me non è la cura? grazie ma ancora un minuto, manca? guarda, ti rigenerai al massimo, eh vedi? perché devo bannare Gioca? eh, Gioca mo, Giova Gioca dai ragazzi, siamo a 30 utenti dopo sarà o la G o l'H no, l'H dovrebbe essere due Mosconi dico io c'è Pietro Mosconi livello 100 goveri, livello 100 si troverà ahia ahia, va da dove? eh, forse si è bugato qualcuno c'era una mosca dai Giova, se no ti banno ci stanno le mosche ma passano da sopra, eh ragazzi, spruzzate lo spray anti mosche no, no, guarda hai sbagliato a mettere queste troppone qua le dobbiamo rompere ok perché atterrano sopra eh, però fa meno danno nell'amplificatore eh, no, perché loro, sai cosa fanno? camminano sopra e vanno giù bene Gabriele, grazie madonna se ha ragazzi, questo è l'ultimo di Montesfago 10, ragazzi e finora non abbiamo sparato un po' quasi no, vabbè, non abbiamo sparato un po' meno male che non era numero ma mi sa che l'ultima è quella da 1600 wow che dite, usceremo le armi in questa modalità? le prove, le povere trappole si squandano le trappole adesso la? quella sotto, la I non è caduta benissimo vediamo è a posto questa qua dobbiamo mettere due basi e io metto quella lì in mezzo dovete metterne una più sotto bello raga, però siamo misaffortunati un po' sbaglio sì, sì questa copre tutto mettete una qua sotto e un'altra ancora qua mi faccio un po' di danno non fa niente e io direi di aspettare qua giù dai intanto abbiamo problemi di fornimento campo lento lo buttiamo qua sotto raga, ricordatevelo ciao inferno eeeh guarda, siamo già in quattro non ti posso imitare se era in lobby campo lento lo buttiamo qua sotto se arrivano guarda i danni che sta facendo madonna mi è impressionante infatti si sciolgono in un attimo guarda ragazzi, i zombie si stanno sciogliendo dentro la struttura c'è il bonus chiasso no, prima di andare perché sennò i lanciatori cambiano in direzione no, non ce la fa no, non ce la fa non ce la fa qualcuna perché si scarica qualche frase no, non arriva questo no, ma la tua base ma qua non ci sono tratti ma non abbiamo messo le gatti eh, intanto non neanche arrivano oh, è vero metti, metti, metti per sicurezza metti per sicurezza tanto ormai le strutture le hai messo eh, mi sono dimenticato di mettere vabbè, vabbè, dai basta, Fidon, basta, basta, dai la avete il campo lento, buttatelo si, vivo cioè, ma per capire il bonus che ho messo su questa cosa è pazzesca no, infatti, è che io sto aspettando di fare di fare la Rage del Dali anch'io per per usare la ho messo come bonus anche la l'Harper, la lì, la vichinga, no? quindi le trappole già hanno il 30 di durevolezza e che ricarica veloce poi ho messo il 10 quindi in realtà hanno 40% di durevolezza le trappole ma mi sembra che c'era scritto che i bonus non si sommano a quelli ma secondo me si te lo da come bonus quindi secondo me si ragazzi, questo è Montespago 10 eh, King al momento no, non mi serve un moderator un altro campo lento eh, io l'ho finito eh, lo metto io anche se non arriva, aspetta che arrivi ma alla final non serve aspettiamo che arrivi, se ne arriva uno una pacchia così quanti ne erano? ne erano mille mille e due allora sono qui eh, ma beh, ma tutto 130 full perk qua secondo me eh, grazie, tutto 130 full perk è che se finisce qualche trappola cominciano ad arrivare eh sì vedi là per esempio non ho messo una trappola mi sono dimenticato quale viene non ho messo una arrivo, arrivano morti gli spetti arriva solo la carcassa oh, ho fatto anche orc verde il video del ma non vuol dire che se io finisco morte e smago 10 non mi servono più pancette e fibrose eh, dovrei fare le missioni da fare, raga ma ti ammissioni quando te lo finite le fibrose me l'ha prestato un po' tardi quando ne hai 20 per tipo per le missioni sono più che sufficienti se non devi tu fare gli stack di è vero 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 ragazzi se vuoi stare qua a vedere in prima persona è una roba fantastica raga vediamo cioè guardati da sopra come sparano guarda questo arriva giù neanche non arriva giù mamma mia guarda tirati in culo centrale pam hai visto dar si si infatti nel culo sto guardando guarda pam ho visto mamma mia allora tutti morti questa l'abbiamo fatta veramente bene mi arriva giù ciao the killer molto meglio della mia nooo voglio quella fibrose mi servono le fibrose voglio salire ciao ignazio al momento no MR3 non mi serve un grafico ancora 400 in che senso fa non fa gamer non sono in live fino alla fine dai che muore dai che muore dai che muore questo arriva questo arriva no non arriva spettatori l'ultimo quanti ne sono mille e due o mille e due o dieci minuti non mi ricordo niente l'ho finito l'ho finito il lancio card in percento ma perchè non mi leggi con the speak punisher the speak dove si non ti vedo punisher ma lo fai apposta che cosa scusami ma non ho letto era mia l'erba io prendo il mattone scusami speak ma non ti ho letto puoi riscrivere per favore ciao vincenza benvenuta eh lo so mario però io avevo vi avevo detto stamattina che facevo monte spago purtroppo io oggi pomeriggio mi sono addormentato ho fatto la lava alle quattro e mezza perchè stanotte raga per stare con voi non ho dormito bene tu come stai vincenza ragazzi questo è l'ultimo di monte spago 10 guardate da fuori vabbè se vedrete poi avessi bisogno di salcutina vedete pure questa è la struttura che si fa lì fuori beh i dardi qua sono tutti ancora su eh si perchè tu mi sai che hai messo pure durevolezza una ho cambiato le perga appunto eh lo so dragon x dragon x si dopo puoi fare i po eh the killer io dopo non ci sono alle 830 perchè devo uscire raga usciamo gli incrementi mi dicono in chat dozen che lagata 200 di ping Quattrocento! Ma che cazzo? Raga, voglio neanche voli incrementi No, io mi muovevo, solo che andavo lento Perché se usavano gli incrementi abbiamo più i X, ok raga, usateli Vabbè, ma... Mi dammi i permessi un attimo, non si metto la base qua, veloce veloce Che questa è brutta, questo è brutto su spawn Oh, qua non ho messo le strappole a terra Sì, ti metti, ti metti Madonna, ne ho una sola, ne ho una sola Metto io, metto io, vai Ha Fooley, no? Sì Ma questo è brutto, eh Ma mi sembra un po' piccolo come spawn Eh, infatti, è brutto, mettetele la base No, raga, qua spaccano tutto Pietro, mettine una sulla base qua, vieni, vieni, mettine una anche qua Mettila sulla base proprio Non state là, che se no la rompono Chiudimi, chiudi quella... Via, via da lì che stanno rompendo tutto dal tetto, via da lì, via da lì Mettete una base qua sopra, Pietro, mettila qua L'ho messo, l'ho messo, a dar Qua, qua dovevi metterla? Madonna Va bene, Titanic, tranquillo Dobbiamo stare qua indietro, dobbiamo stare qua indietro Venite qua e buttate qua sopra, venite qua sopra, sopra, sopra Venite sopra, sopra Se buttate le torrette così buttano giù sti stronzi Oh, raga, a me ho fatto... Anch'io, con le zone interrotte Ecco, sono ritornato, raga, benvenuti Non dovete andare là sotto Mettete una base qua sopra e buttate le torrette così uccidono le streghe No, raga, come faccio a salire adesso? Un campo lento, veloce Via, 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 via Lasciamo che le streghe rompano, pazienza, dai Che loro non fanno danno Solo la struttura Siamo qua sopra, così loro lanciano qua invece che sulle trappole State qua, dai, ho tu uno Ragazzi, è bello che non possiamo neanche costruire, perché? Perché hai messo tutti quegli aculini Ti converebbe andare a buttare... Questa è l'ultima Freedom Andiamo a rompere quella cosa di mattone No, quella di legno, non è di mattone No, no, anche questa qua Qua si può rompere Mi sega per tutte le gas, ma... Anzi, no, no, aspetta, non ti scuse Che uccidono i zombie Vieni qua dietro, ti nascondiamo Buono, le attiriamo da qua Scusa, mi brida Veniamo via, veniamo anche noi Vieni, vieni... Venite da questa parte qua, così vengo... Lascialo, lascialo Farà un... La scala poi, fa la più grande In modo che ci... Venite qua, venite qua Raga, dietro la scala vi dovete nascondere Fa la più grande Ok E chiudi questa parete anche Così, facciamo il giro No, raga, non ci credo Stiamo facendo un altro spawn Nooo Ah, grazie Andate sotto la trappola di nuovo Venite, venite C'è il fantasma Atterriamo, atterriamo Io sono qui Sono qui Tanto di là non stanno attaccando No, no, non stai neanche qui No, no, no Dai, dai, dai Sotto le trappole, ragazzi Eh, Mario E se finisco prima, sì Va bene, va bene, Claude Andate dietro i filoni, va Tutti qua arrivano Guarda che roba Eh Devi giù Devi giù Oh, regà, stanno entrando però nella base Ne entra uno Uno, va bene Se vediamo chi scende sopra Sobbi per quattro Vediamo di danno Sono i lanciatori, ma muoiono Eh, Black, al momento no Certo, ragazzi Però non adesso Domani alle 3 fino alle 7 Sono con voi, ok? Venite, venite Facciamo il giro, così Li attiriamo, li disorientiamo Venite, venite Venite Ragazzi, stanno entrando Più di uno No, 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 no Vieni, vieni Ascoltate Venite, venite di qua Eh, ma Facciamo il giro Facciamo il giro Sono già parecchi, dar Eh, ma è normale Un po' di damage E lo so, the killer Lo so Però io vi avevo detto Che oggi portavo Montesfago 10, ragazzi È il bot Flower La mission auto No, no, no Perché questo non ha preso No, no, no Eh, vabbè Lascia stare, Pietro Ma ci deve andare Loro ci seguono Ragazzi, stanno entrando Ragazzi Tanti? Eh, sì Siamo tre quarti No, non si può morire È perché hanno rotto sopra Hanno rotto sopra le trappole La lancia finish Guarda, guarda, guarda Noi siamo qua Loro lanciano là Cioè io sono qua E loro lanciano là Perché lanciano là? Chi c'è di qui? Cioè hanno rotto tutto La guarda Ah, eh È mo? Eh, cioè Va da lei Come la perderiamo? Io esco lo sparo Al massimo Ci mettiamo a sparare Dai In mezzo Mi piace Un altro minuti Non ce la facciamo Raga, possiamo cadere Quello spawn Così buildiamo Dai Non so se ti basti Dai, dai Vedi che È un proprio Freedom rompi Almeno buildiamo Dai Devi darmi i permessi Sperta La c'ho io Dai Ehm Mi sei In te Cerchiamo di sparare Alle lanci Dobbiamo c3 Questa No raga Non sparate Eh, tra Non ce la fai Non costruisce Ancora Possibile Sì Ci sono Ci sono Una marea Di accolini Da È impossibile Avere Da Contruire E se non la perdiamo Cioè Stanno arrivando Ma raga Mancano due minuti E cinquanta Buonasera Davide Domi domani Dalle 3 In cui Sono tutto vostro Fino alle 7 Però raga Mettete una base Almeno sopra Pietro Anche se è mezzarotta Metti una base E come si salgo Eh, come si salgo Come ti metto Ci abbiamo provato Dovrei cambiare il titolo Al video Eh, vabbè Dai Ci abbiamo provato Come perdere Mentre Senza sparare Non vi fa bizzare Almeno due trappole No No Pietro Facciamo vedere le maniere Forte Come sappiamo No Dai Dai Non usate le armi Dai Purtroppo Non ci puoi far niente Pietro No Perdiamo Non ci puoi far niente Ma io comunque Non ho scritto senza armi Ma lo spiego Io ho scritto come impostare motospargo Non ho scritto nient'altro Oh ragazzi Mi sa che sta peggiorando Questa situazione Eh, dobbiamo Spingerla Dai Usiamo a Tulling Tutto quello che abbiamo Ok 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 Non possiamo perdere Il titolo Il titolo Il titolo Perché la fai al 130 Ma nel 106 Che te frega Tante cose Dai 50 secondi Dai Non possiamo perdere Non possiamo perdere A perdere A 20 secondi Meglio che Andiamo a perdere No no Vaffan Cioè Tutto almeno il tempo Che ci siamo messi a pittare Con le tappi Non è scherzo Grazie Ibi Dai Due secondi Non schivare Il titolo Che ti sposti Ultimo match Fatto Bravi E non abbiamo fatto neanche il 35 di danno Ti abbiamo fatto per la sfida Ragazzi abbiamo appena completato a monte Spago 10 Mamma mia ragazzi 72 mila di danni Fate lo screen Perché è tanto 72 mila di danni 72 mila 250 mila No raga non ci credo È tanto eh Tanto sì Abbiamo fatto 7 milioni e mezzo Porca Quanto? Che sono passato così di un livello Ciao Stembi 8 milioni 872 mila Grazie raga 10 minuti Arrivo eh raga Va bene Ragazzi ho detto Domani Dalle 3 in poi Non adesso Adesso non mi posso aiutare Perché anche Perché fra un po' devo uscire Eh vabbè Montesfago 10 L'abbiamo completato Fossero onesti però Il lama dovrebbe dare Tutti i resendari Eh Perché io adesso Se vado su registro Non c'è più C'è solo Non c'è più nulla Ce l'ho Già accettata Davide Vediamo Fammi aumentare Questa qua Mamma mia Un'altra Mamma mia Mamma mia Quanta è durata 40 minuti Eh se Nella madonna Armi del cavolo No raga Al momento Non mi serve Un mod Certo che è buono Lo schiacciabietti Shadow Eh raga mi è rimasto ben poco Del mio inventario Dopo Montesfago 10 Queste sono le mie armi C'è un terzo Di quello che era prima Questi sono i miei progetti Vabbè gli altri sono al 20 Questi sono le mie armi Da mischia Anche se non sono Granchè Dei due martelli Nel 130 Vabbè qua ci sono Il nocturno L'apparizione Poi vediamo Vabbè trappole Non ce l'ho Questi sono i materiali Ora dovrei rifare Un po' l'inventario Per i prossimi Per la prossima campagna Grazie Seba Il mio ID di Epic È DRK Punisher Come il canale di Youtube Grazie Vito Aspettiamo a dare Raga Aspettiamo agli altri Grazie Io vado Io vado Ciao Bella grazie Adesso Devo solo Mettermi a farmare Un po' di Di efficienti E di spargo Cosa devi fare? No vabbè Sette nelle per le armi Ah giusto Buon mondo Cavoli questa scelta è stata facile A parte l'ultima Ma le altre È già andato Pietro? Allora vaga No Cici Cici Dara Dimmi Deve andare vero? Eh no Posso stare un altro po' Ok C'era un ragazzo che voleva fare Scusate Voleva fare Valarguta 9 No Va bene Titanic mi sembra Venise da te Chiedi go Come che si chiama? Titanic Ah ho capito G Che si chiama? Sennò invita Kill noob Ma l'ho invitata Ma è lui noob Vedo che sta facendo Un Consigna la bomba 94 Insieme a Dot No Sono da soli Sì Sì l'ho accettata Domi No Devo andare Mario Oì Bella Raga faccio questo scudo E vado Ciao Pietro Ciao 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 Ok Dopo questa flower Ti invito io Dai Abbi pazienza Che dobbiamo fare? Difesa? Ci siete? Il 9 di Valarguta? Eh Domi Siamo già in 4 Che devi fare? Eh Uno scudo Il 9 di Valarguta è il best Quale? È la Valarguta 9 Ah Hai le trappole per caso messe? Sì Ok Allora prendo costruttrice Allora prendo costruttrice Allora prendo costruttrice Allora prendo costruttrice ... 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 Abandonato. Grazie a tutti. 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 Allora, Grazie a tutti. No, No. Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. Niente Tutto e due lo devono fare, dai No, 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 il coso No, no, solo lui, io sono al 6 Per fare il 7, ma più avanti Eh, io ho avviato Lì ho standarde componenti Perfetto 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 Seleccite expande shield from the storm shield console Oh great you brought a friend You can grant building and harvesting permissions to visitors using the storm shield console menu Go, if you want, go out You're all in the middle Wait, wait a minute, look at A Where? No, I have to go with Dary Look at A towards the north and tell me if it's okay Or too much I got a next row Something that's fine Ok Sorry about it Ok Ok It's good Okay Totally Okay Something's fine You didn't have to do it I was gonna go with a rifle Okay You didn't have to do it Because you can't help you with other rifles So you can help yourself I don't want to help you I can help you But you can help you I need to focus Ok, ho fatto io via Se ci sono le trappole, fatemi mettere le basi Che questa ha il danno Dovevo darvi i permessi? No, 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 togli Ah, e dare Fammi solo mettere il basso Puoi mettere uno spazzatore e uno spazzatore A me, per me, si mettono il bassoatore Puoi stare lì un attimo per vissi a dare? Fatto, fatto Sì, sì, l'ho dato in me Metto uno a camera A posto Sì, allora taken Un profilo Sto Sto Sì, ma Pagra Sì, non Venite venite di qua Passa no? Sono i lanciatori che li lanciano Comunque di dentro mancano delle D no? Eh si Guarda questa stranza dove le sto lanciando Da la tiene Ok Ehhh... Luis, togliami permesso Ok Ok Mami, che po... Vestil Palla Vestil Palla Parce Vestil O Vestil Palla Vestil 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 Vengono da sopra? Sì Eh ma tu stasera fino a caccio o che? Che avete chiuso qua? Vabbè Gioco gioco Dove? Toglimi i permessi Comunque vabbè ho piazzato quello 58 ma tanto rallentano comunque Di Di aculi di legno Vabbè Non volevo mettere la base E sopra Devo capire da dove attaccano di qua Ah di qua Sì ok funziona con la peperata Penso Ok si funziona C'è che c'è la scappa Non ci vediamo Perché passano qua? Non ci sono trappi Quanto ci sono trappi? 82 ecco Vabbè che tanto questo lo dovrà buttare giù Non ci sono trappi Non ci sono trappi Non ci sono trappi Ok, ok, tanto l'ho tolto. Poi quando hai del tempo se vai su YouTube, sulla mia live, fanno il video a poco. Se c'è un link di Pietro, non so se lo conosco. Ti puoi iscrivere anche da lui. Ok, questo è bravissimo, aiuta sempre a tutti. Si. Ok, ok, va bene. Stai! Ok, va bene. Sì, non c'è nulla Vito 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 Stai a balanza, toccolo il campo Stai a balanza Stai a balanza Stai a balanza Stai a balanza Comunque stavo dicendo, sui titoli delle live pure, non mettere tipo quei titoli un po' complicati, a pensare quando le cercano tipo sulle live, le persone di Sabba e il mondo, diciamo, non è che le persone di Sabba e il mondo. Eh no, anche ora provo, provo a scrivere Sabba e il mondo e metto live, così se non è. No, ma per uscire in tendenza comunque deve avere il like e il visual, cioè deve avere i spettatori. Non esce così. Ma Pietro oggi che ne aveva 37 in live? Ecco, vedi? Uno youtuber che si vuole, io che ti salvo in mondo, tipo, legalo armi e li vedo in pass. Esce come live la prima. Esce da noi, Dani! E' pv' di Pietro, adesso non è live. No, quel lato no. Quindi, si chiudi salto al mondo. Ecco, me devo spiegare le ciotanze. Eeeh, qui si metti i minacci per messi. Si, qui è... Sta un bel mondo, livello 120, così, dito di tipo di a c***o, ma... Tu direi che c'è scritto, sta un bel mondo, perché la fine è quello, se... Non c'è. Non c'è, non c'è. 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 Non c'è... C'è un altro spawn che non mi viene a ignorare. Comunque non vi conviene stare qui di sotto perchè stanno roppendo le morazioni, non vi conviene andare via Sto modificandoci Li attaccano Come me quei bracci che faccio? Eh perchè i lanciatori non lanciano Apri noi un'altra che la metto io Ecco i bracci Questa fa il devasto E qua fa tutta sta scalata perchè? Perchè così i lanciatori non buttano sopra Ah E poi non sprechi il slot Eh si ma poi lo butti giù Riusci tu? Si si Luis viene un attimo, mi servono 4 pass Cosa? 4 pass mi servono anche... 4 gas 4 gas 4 gas 4 gas e... E 8 dinamo Eh ne posso faltare soltanto 1 Non è un luce di morte Perchè Se avete il campo lento non vado di solito Se avete il campo lento non vado di solito Se avete il campo lento non vado di solito Ultanto 1 c'è è un po' sbagliato, scusa 2 che riguarda, è una cosa che metterà è un po' sbagliato è un po' sbagliato Sì? Dove sei? Alla, alla, alla Sì? Parti in 3 Guardi? Si, no, si, tiriamo Sì, no, sei 3 che entrano dentro lo spawn Non ce la faccio Sì, ma ti sei laureato Ma che cazzo No, che cazzo molto Intelectroato Cosa? Intelectro... no, scuola Intelectroato qui, capè Taglio i permessi Io ti consiglio di sparare il meno possibile E se c'è una bomba, a sparare la bomba per squadrare tu Dopo di qua andiamo a fare una missione a farmare Dopo questa andiamo a farmare Io poi le 10 e mezza attacco Piss Vieni Eeeh, mi serve per 2 di 2 META! Minca fa veramente se senza lucida Vieni Vieni Quanto? 2 Dio Luis Oh, dimmi Sto veramente senza lucida Eeeh, io non parlo così tanto, ti dici Bosa nonna? Non parlo così tanto, ti dici Non parlo così tanto, ti dici C'è l'hai? Non parlo così tanto, ti dici Scusi Io di tu ci spiego due chance, ma faccio due chance C'è, tanto c'è un po' 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 Non c'è parte di neve, mi piace assa come andrà Mi dici poche eroe fatte a parte delle eroe che tu che io non ce l'ho Eh, quasi è così Devo guardare Deve guardare i perchi Deve visto tagliarmi per me Vabbè, avanti, finito Beh, l'abbiamo finito Ora ci dè 200 di raggio a testa Avercelo a far fare Finca, immagini lui ce l'aveva finito, era buggato Ce lo regalava Lo vendeva Eh, bravo, bravo Uno stacco un euro, diventava ricco Eh, bravo Oh, grazie Ma fai guardati Eh, dar? Dimmi La sottoterra, come me la consigli di percare Sottoterra, anche se Sottoterra La pala Eh, non ce l'ho Non l'ho preso Sì, ma come me la consigli di percare E livello critico e danofitico? Sì, devi bilanciarla Che basta Nel momento su Brawl Stars Manco si sparano Fini di patta Grazie a te Grazie a te Grazie a te Ciao Ciao Darra è Il primo Efficienza Attacco pesante Giusto Oppure c'è durevolezza Veracità Corazza Non mettere mai sulle armi Perché tanto si rompono comunque Esatto Bravo Non fate come ti Per dire che appa Puce Efficienza Attacco pesante Sì, sì Questo sbaglio l'ho fatto anch'io In realtà Mettere durevolezza No, io non l'ho fatto Non lo sapevo Sì, comunque Si consuma veramente Trappa Sì, sì Pensavo che si Danni Impatto Corazza O velocità Di movimento No, metti velocità Tanto Che si deve muovere velocemente Ma non dell'attacco Di movimento Comunque No, no, no Velocità Che Così lui fa Destra-sinistra Più velocemente Ok Ok Quando avrò Tutte le varie cose O, dè, il vedi Se uscirà Le missioni nuove Qualche Lavoro è buona Oppure prendiamo Eeeh Zittà Luis, dai Lideratar Sì, sì Ok Ok, fatto Sì, sì, sì Anche se Pienso che Comunque È limitato Un attimo Que poffco Sì, 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 sì Sì, sì Da-da-da-dale-da-dale No, non c'è niente di interessante, a parte quattro perro che è di tempesta, ma... No, io dico proprio dove stanno... 230, sì. 230, sì. Sì, ma secondo me è una bella pia, se ce n'è uno che da... Ma è il 94, che segna la bomba, che dà l'80 di vantaggio. Il gendare? Sì, sì. E che facciamo? No, andiamo a farmare, non vale la pena, dobbiamo attendere quando sono quelle quattro perro. No, no, che se vantaggio il gendare a me mi servivo per portare... C'è un po' a gas football, ma... Mi mancano un altro... 90 mi sembra per solo... Vabbè, no, ti dai, poi almeno, metti. Sì, io ho fatto prima uno che mi dà il 76, ma il 38 di vantaggio è il 80 di vantaggio, ma il 80 di vantaggio è il 80 di vantaggio. Ma il massimo possiamo fare questa del 76? Città fondamentale. È dall'80 di vantaggio. 80? Uh-huh. Allora, facciamo questa che è basso, sì, no. Attento di vincere, è vero qua. Ci sta a te anche a voi, raga, o dovete uscire? Sì, io... Ci sto, però dopo di questa vado. Ok. Forse dopo di quei vado, credo, devo staccare 10 e mezzo, se no domani. Aglio un po'. Luis, tu ci stai? Sì, sì, va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Certo, Francesco, dopo sì. Facciamo questa, e poi dopo sì. Andiamo a farmare. Grazie a tutti. Comunque YouTube ha un problema. Dar, ti vuole vedere una cosa. Per la pistola silenziata. Quella che tempo fa mi ha castato Dar. Quella al 106. Andava bene. Era tipo, no, era tipo metà vita. Andava bene scambiarla per tipo questo, aspetta, dov'è? Venga, andiamo a difendere gli effetti. Ma quella calva è buona. Aspetta. E dove è l'altra, dove è l'altra, dove è l'altra? Dobbiamo difendere il diffugio, però, andiamo veloci. Questi tre. Scusami, ma dobbiamo difendere il diffugio. Vieni, vieni. Dopo te ne mostri, stanno a due. Non fa ne cento meno. 76 comunque fare le missioni con lo straniero è troppo divertente si inizia a destra a sinistra però il mio straniero è bugato, passa attraverso lo spug di zon c'è uno smash DIR ehi non sai dove combiner secondo me non c'è parte di neve a destra a sinistra non ho capito non c'è parte di neve conviene farlo a destra a sinistra non c'è parte di neve non c'è parte di neve non c'è parte di neve si arriva per la pistola silenziata ma cosa? lo spetto o la pistola? la pistola silenziata ma qua la pistola silenziata queste tre ore per una pistola? si per la pistola silenziata queste eh si full vita però non sono full perk ah ma ti giuro guarda che me l'ha scambiato un tipo a caso fa conto mi ha scambiato l'apparizione a 106 e mi ha dato una macchina da skiver al 106 full perk ma è buono o no? se ci guardi comunque oh ragazzi trovate muta forma faccio un po' di metallo giusto a 5 di su minimo ok sono trovato se lo trovato se non avevo neanche pensato a mettermi lo straniero però un coglione l'ho trovato e me l'ho ucciso ma non devi farlo un po' di me se vuoi farmare va in più no me sto facendo una missione poi casualmente l'ho trovato ho detto vabbiamo uccido cazzo dire ma fatti scherzi tu è vero che sei laureato hai 10 laurea che dici se ho poca? 11 che dici se ho poca? 11 aggiungi aggiungi 12 12 secondo me ha fatto del pugno l'hanno scoperto quel glitch perchè uno secondo me ha dato un pugno per spaccare e aprire la cassa ha preso la cassa e gli ha dato un metallo allora ha detto come cazzo l'hanno scoperto ma c'è mod conosci orco verde? verde? si ha fatto uscire anche lui i glitch ma oggi c'è questo invece è uscito due settimane fa l'ha fatto uscire il video adesso ma è assolutamente puoi fare delle visualizzazioni proprio ruba di contenuto no ma il fatto di rubare ma arrivi dopo un due settimane forse è ritardato o no un po un po un po' ritardo io non l'ho riporto oh raga stormchers però vabbè raga faccio qua sta la stormchers ma sei sotto terra io sono sotto terra sta cercando le lampade arrivo Mirko non la piazza io volevo trovare le paparalle che mi danno oh ceste livello livello 6 raga raga ti muta forma cristo dovete muta forma 1800 no raga mo spammo il metallo mo ne faccio 20 30 mila ho trovato raga ho trovato cesti livello 6 io me la apro raga io mo lascio in metallata era acquitto però è fuori dietro va bene che schifo mi ha dato 3 stelle non è privata bene non ci vuole niente vai mentre tu fai avanti indietro te la faccio io dove sei cristo vilda i serious poi non c'era il coso labirinto dove c'è i mostri dell'erba sei svegliata di no? devi andartene vai le paperelle quanto ti manca di farlo te lo do io così vai a scambiare ok sono 0 mille 8 no 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 stò f*** tranquillo vai 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 ho lasciato tipo 2000 di metà fatto no 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 come ha uscito l'orso a questa no e sta il cazzo come ha uscito come ha uscito la Sì, è già andata. Adesso gli dico che è morta. È morta da sola. Ed è spawnata. La strega? No, no, è morta. No, no, è avuta forma. No, è morta. Eh, vabbè, dici che è despawnata. In vita mia. Ma cosa di dirgli che è morta da sola ed è spawnata? È morta, non so come mai. Non c'è più. Non so. Ma di solito ce ne sono due. Ma anche di più. Io un giorno ne ho trovato quasi tre attaccate. Non è a terra qua, sotto terra. Francesco siamo full. Dopo, dopo, farmiamo. Adesso facciamo una missione. Sorry. Ci avete mica spraw con Te Phantom da buttare. Penso. Io prima ho fatto trappola e ne ho finito di più. Vai me lo portate poi alla beta. Oh, no. E' morta Vito Vito Comunque venite ragazzi Facciamo una storm dai Stavo prendendo l'ultima L'ultima torcia Questa è la droga Questa è la droga Da dove si entra? Oh E' morta E' un bastardo Dove leggi secondo me Un pochino Ah scherzato Venite venite Facciamo la storm dai E io vengo Ma che avevo lasciato un po' di metallo a terra Dove sta? Eh non so se c'è metallo Ok che mi ha lasciato tutto Raga questo mi è bugata Dragon scaglia a buio Cosa? Ah si si c'è del ferro L'ho preso io Mille Bastardo Mille No di più di mille Dove sta? Eh l'ho preso C'erano tre Eh dove era Dimmi dove era che lo prendo io Io lo prendo Dove stai tu? Si si ma non c'è Non c'è più Non c'è più niente Non c'è più niente No no c'è Eccolo 600 Si 600 Hai bisogno di ferro? No no Lo stavo solamente a capire Eh poi se andiamo a fermare ne troviamo uno E qua lo dico che la La despawn out Che figlio di puttana Tanto la prima cosa che faccio è andare dove vai Se distrugge ste cose del treno ti da 26 26-23 di ferro guarda Oh prima ho spaccato tutto il pugno sto pugno L'altra rena del pacco Tutte le altre le metade 150 vede il buglio No no Andiamo a buildare Luis vieni Dai che facciamo la storm e poi andiamo a buildare che manca un minuto e mezzo Eh vieni ancora dobbiamo farlo Sì ti abbiamo aspettato Daiii Luis 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 anda Ciao mi chiamo Luis Ehi Mi chiamo Luis Ehi Mi chiamo Luis Ciao ciao Mi chiamo Luis Vai abbiate Tutti ragà Tutti ragà Ci siamo vai Sc acre Litate i tezzi Lu cocни Sono stifo Buongiorno Ridicett Buongiorno Più Da ne quando la 10на Dianna faccio un video di macchina No no, mi conviene alzare per le darts Veramente? Ti combina addirittura? Mi prevedevi che attacchi gli hai messo tu e te lo do? Basta tutto questo Prendi, prendi No! Raga, raga, non abbiamo buildato Non abbiamo buildato, via, via, via Cazzo, via, via Vabbè, ha buildato, ha buildato No, no, non ha buildato nessuno, vai Sì, sì Sì, sta buildato il danno Che cazzo dici? Sei di qua, dove vai? No, dalla mappa, dalla mappa si vede Sì, sì, guarda quanto è buildato Non tanto No No Un mattone? Manco, il legno Ah, guarda, ne ho pure Vedi a tu qua Vittate, vittate, vittate Vedete il ferro? Ma fate proprio intorno, mi raccomando Io non sono Non sono tanto Mamma mia Hai fatto, no? No, no No, no Però male che ho pensato un'esca Dobbiamo far scoccare Però ora non spawnano, cioè è diverso Oh Dede, è buono che mi ha scavato a posta a 130 Fa 1000 di danno Quindi tipo è buono Qua c'è 1000? Si Ma perchè si spostano sto spawn? Non lo fa stare, non lo spawn anche di qua No, scherzando, non fa 1000 Ma po' Dove è 1000 ditte, dice 1000 Ma lui è squinta vinta Ma lui è squinta vinta Ma lui è squinta vinta Però un po' voglio lanciare la pallina Si si Devi stare lì a mirare Ma perchè tu hai messo danno i critici E non di bar, no Che tipo No, infatti col pagato Ma capo, questo è Va bene gaming Ma 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 Comunque è vero che ho fatto Di usare le m3 C'è No, non esce No, è facile No, è facile Tranquilmente No, ha accettato il bomba Non, ha accettato il cambio Oh, non, ha accettato il rischio Non, ha accettato il cambio Il Questa 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 ecco cosa si è abilita tu non c'è da 30 fatta tu muori bastardo fatta ragazzi si ma sta diventando più rognoso perché è cambiato dove scusa senti i bombaroli quelli fanno saltare lo stesso del canale comunque da qua passando per di qua stavo passando ci ho messo pure le trappone no ma non far così vabbè ormai devi farlo di là di là raga sta rompendo merda l'abbiamo persa come eh dietro ragazzi si è così tanta gente si erano in 6-7 dietro sul muro hanno rotto una vabbè la riproviamo basta buildare basta quindi buildiamo all'inizio poi facciamo tutto il resto si si infatti ma bene ma bene ma bene che palle libera si 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 Grazie a tutti Ah, lui si abbandona ma parti Stavolta mi metto... Mi lascio il costruttore e mi metto... Il... Il coso, che si chiama Ma no, prendi neanche lo straniero Tanto se bigliamo non serve la base Ragazzi Io devo fare una cosa Cioè spengo oppure vi dà fastidio se ti manco fermo Pure spengo Eh ma se ci aiuti però Cioè nei 7 minuti non... Vabbè inizio No, ma vedo se ce la faccio veloce e vi aiuto Va bene Va bene Prima devo fare una cosa Fatto già stream In che senso? Ah Fatto già, grazie No ma è il bot e non è una persona Che spamma Vabbè Mi piace Dobbiamo solo buildare prima E basta Facciamo una cosa Mi lancio io Perché se ci lanciamo tutti in una volta Spawnano tutti Se mi lancio io Spawnano meno Quindi voi entrate quando avete Quando è scaduto il tempo proprio Va bene? Rimanete qua Ok Ok Mi lancio io Ina Che drollet Rimanete qua Ah, sì, sì. Ah, sì, sì. Check your map for the location of the shelter. Find the shelter before the husks do too much damage. Backpack online! Uh-uh. Come on. Raga, non dovete venire, però, vabbè, ormai. Builda, builda, builda ancora, bravo. Adesso spawna. Io vado a potenziare. Ok, ecco. BOOM, we're gonna feel this. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. All right, I'll kill ya. Nice job. The shelter needs to recharge. Once the shelter is prepared, we can extract the survivors. It'll take ten minutes to fully recharge the shelter. We've got a storm closing in. Reinforce the shelter and prepare for an attack from any direction. Oh, shit. Come on. I can't quite tell where the storm is coming from yet. Hey. Comunque YouTube ha dei problemi. Ad esempio Pietro ne aveva 705 oggi. Non so se ci hai fatto caso, Vito. Adesso ne ha 680. Di cosa? No, parlo con Vito, noob, che anche lui si chiama Vito. Nope. Non so perché. Si è ancora lanciato, che non è solo. L'uomo che era in attimo andato. Cioè, già ce ne hai pausoli iscritti, i militari pure. Come anche me, avevo 5000 visual un mese fa. Me ne aveva tolto i 1000 e sono sceso a 4000. E' veramente stronzi. Già uno ne ha poche. Magari tira avanti per raggiungere a quei 10.000 visual. E niente. Non so perché. Non so perché. Ma adesso quanti scritti hai? Dove 100... 90? 93? no storm data has been updated check your mess messi non spawnano maila di Scusi Scusi Perchè Ma Viene Scusi Ma Allora Scusi 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 Ma... si muove? Non c'è, non si muove, no, non mi sa che... Eh, faccio da qua Facciamo sto campamento qua? L'esame? Qua, qua Ma lui... Luis? Malachide E' ossidiana Luis? Ma hai il progetto di quest'arma? Ma a me è solo malachide Luis? Luis? Perché non ti sento? No? No, si Tu invece dar sì, o no? Non so se, sento benissimo Posso se ti do... No, non intendevo il progetto di quell'arma Quale arma? Eeeh... Quella tipo cecchino Di colpo Non ho capito Quella cecchino con la punta che tipo spara quattro colpi Eeeh... Eeeh... Luis, vieni un attimo Eeeh... 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 SORRY Eeeh... Eeeh... C'è anche di qua Eeeh... 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 Ehi ma che c'era il progetto? Un po' di tempo? Sì, sei vero? Ma vittor c'era il progetto Spettro silenzato C'è il spettro silenzato Sei silenziato tu, Vito? Vito! Vito! Non sei Vito, tu? Chi sei? No, io sono Mirko. Ah, ok. Mi chiedono se lo spettro è silenziato. Magari. Vito! No, non so perché a direi giù. Dai, Luiz! Mostra lì la mano a casa di lì, mano. Ah... Ah... La darra. Oh, Luiz! Oh, Luiz! Mostrari lì l'arm in mano. Questa! C'è uno schiopo? No, non c'ho... Schiopo si chiama. Non mi ricordavo il nome. Schiopo, schiopo. Oddio. Lo spettro è silenziato? Certo che sì. E io non ce l'ho, ad esempio. E ho tutte le armi, quasi tutte, a parte quello che mi ha detto, non ce l'ho. Lo spettro. Dai dai, prendendo le troppe, dai. Ma perché il rifugio ha mezza vita? C'è la poca vita? Penso... Boh? Ma perché non ho? I ho fatto da, da. I ho fatto da. Non ho fatto da. Wish I could. Unh, unh. Unh, unh. Unh, unh. Unh. Unh, unh. 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 Bene Sori Al finito l'hai fatto al 106 de i tardi Sì sì the trappola che ho avuto Voglio portare il 130, però devo farmare lo spawn No, che prima non ce l'avevi Che prima, ma ancora prima Sì? Cioè, da quanto l'hai fatta? Non ce l'avevo da più di un mese C'è chi non pesante sarebbe Terminator 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 Così fa 3 I wish I could E anche... Nope Così non passa Apart, apart Eh, Vincenzo mi sa che lo buttarà fuori il gioco Perchè... andrà a FK Qua li butto un pugno così che lo butta giù Lo butta di nuovo indietro Piazza qua un Dardy anche qua Così fa... Se passano almeno... Vengono beccati da entrambi Vengono beccati da entrambi Facciamo fare le trappole e pezziamo i robottini Sì... È ovvio Siamo ancora dentro Sì... 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 Per il resto il Rattatat E quindi... Così li tirarlo su? Oh no, si si è forte Specialmente se lo usi con l'eroe dell'Halloween Che fa il critico con le pistole Fa il devasto Ah si, vi avevo chiesto se avete lo spacco montano da buttare Non penso Anche se non lo uso molto ma penso che mi servirà per le trappole Nooo 3 stack e 18 Semplicemente Cele Ho chiesto con le testenze Assolutamente Se non ci sono tutte le strane I'm serious? I'm not going to do it, I'm not going to do it. Attack tech online! BAM! BAM! Uuuu Però vedi adesso è pieno di vita, si ma no? Cosa che fa? Lascialo venire sotto, lascialo venire sotto M*****e! D'ameni si prende Hai visto come muore? Le trappole l'ho fissata M*****e, trappole al 106 full perdi Era... era... Debolezza M*****e 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 Ma tu, dare hai qualche arma al 106? Il 106? Stai al 130, no al 106 Tu si OLE A Ma... Ma a parte il martello L'alciapallo di neve Oh no, che è? Sette colpi Sette colpi Ehm... Ma che è? Il spargi senza Quello è più forte C'è quello che si fanno da sotto Eh, bombarolo Io vado fuori l'ambo Gli M*****e M*****e Barola Ma che конечно oh you're going to feel it uh-uh last morning look at that one where 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 i 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 Rescue Cicchino pesante sarebbe l'obliteratore 5.000 con le trampole Ma dar l'arma che ha luis Schioppo Esatto lo schioppo E si comprava il negozio o si trovava con l'evento? No no, era nel negozio purtroppo Io non so Non so Non so Non so Ritornare come è già successo con Demo 8bit che lo scorso anno era C'era nello show Di Halloween Di Halloween Non so Dovete andare voi vero? Si Cioè In verità cambia gioco qua Dove vai? Vai su GTA? Ah Ah Non so Prima ti sei, hein? Non so 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 Eh Tranquillo Rimani ancora? Eh In modo staccare troppo Va bene Ora la faccio in pubblica Usciamo, eh? Da resta un altro giorno Da resta un altro giorno Va bene Vai tranquillo Non so Ma che po' a buca Tu fa fare le missione del 70 Vasa? E te le missione del 76 Que le puoi fare? Eh Mi sembra, si Mi fa fare Si Per un altro L'ho fatta prima Odgino Ho fatta quella Un allo 82 E ma in privata No, in pubblica Si Oh Metti una che da perk leggendari o epici E' ovvio Da modo Io ne faremo due Domani facciamo il mio scudo Si Ma sul tardi, eh? Verso le 8 Ok Ma domani tu vai al lavoro? Eh, per forza Ok Ok It's Grazie a tutti. 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 No, no. Fino a quando non ti sblocca proprio. No, no. Grazie a tutti. Cosa? Se gioco con te che sei da Xbox, ci fa giocare da un po' di gente da PC. Perfetto? No, no. No, non c'entra niente. Tu lo conosci fino a più. Certo. 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 Io lo sapevo pure. Tu posso sapere sempre tutto. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ma perchè le spade si possono usare solo con i ninja? eh sono... fanno più danno a tutti i ninja come anche le armi poi i mitra e i cosi della d'assalto fanno più danno a tutti i soldati io ogni volta quando vado dentro la città di fantasma voglio vedere sempre che c'è qualcosa là capito quello? quello che dà erba su bros anche quello che a me mi servono quella erba ma tu a che monti stavo sei che non mi ricordo? sei, una volta devo fare poi voglio aiutarti no ma non penso l'ho voluto fare ieri sera l'ho provata ieri sera ma non so se non ho rotto un po' di tapoli non so neanche sempre ah l'ora si può dire tra i vans io avevo fatto uno spawn ben fatto e loro hanno spostato si sono spostato da un'opera no 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 non li abbiamo chiuso non ho perso vai è qui chato sei come ieri io ero mi ero mi ero salviata con il mio nome perchè sempre ogni volta devo intrudere quando devo fare le missioni con te e ci ho provato da solo guarda questo prestardo si fa il lame ora l'altro se lo fai fumo la r mi dovete creare un lame ma tu... tu lo scambi... no vabbè ti stavo dicendo se tu scambiavi il raggio salare però sicuramente di no perchè ti serve pure il giusto se avrai 3-4 stack si ma... non è proprio uno stack e mezzo hai il raggio? come lo fai a fermare? nelle missioni fai storm te ne dà 3 o 4 e tanti giorni ci mettiamo... e noi due poi qualcun altro vai vieni eh ma devi fare le missioni al 100 ma le facciamo non so io le so fare hai lama non so io le so fare le missioni non so io le so fare le missioni non so non so non so non so non so la chitta forse la volevi più non so non so non so non so non so ma domani di pietro si c'è si si devo far craftare 5 turni 106 ok devo far craftare 5 turni 106 ok non so gioca più non le vedo più gioco gp sai il del mattone potenzia a 2 ok non ci hanno tanto per beh molto distante io non posso mettere trappole perchè non sfuggo ne mamma ma tu con terbi che grosso hai terbi? con che staccavrai cheee se hai accolato se hai accolato guarda l'acqua ma questi? ho messo questi in altri qua però qua ho messo io le acule bravo però che ora non le posso mettere più perché non ce ne ho 10 mi so se mi so se calabria non sei live qua mi sento oh ma con 1090 di erba e fibrosa conto il fatto che mi faccio secondo te devi fare 1090 diviso 7 ma a me mi esce 100 quello è il numero cosa? quello è il numero che te ne fai ma è impossibile perchè con uno stack te ne fai 35 perchè ne fai perchè ne fai 35 perchè ne fai 35 se devi fare se devi fare ripeto il totale diviso 7 allora io ho 90 diviso 7 no come mi esce 27 puntino eh 28 e mezzo 28 come 28 o mille 7 no come devi fare il totale vabbè ecco bene ce lo chieda poi a me ciò bello aspetta devi fare 1000 diviso 7 ma io lo sto facendo però che mi esce con un botto di numeri quanti numeri chiesti? eh 1 2 non devi chiedere lasci così la finestrella 12 numeri 2 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 9 10 10 11 12 12 12 12 13 15 15 11 14 3 15 15 15 18 no, non c'è ronca l'alba non c'è ronca l'alba non c'è ronca l'alba ne vedi ? che vedi ? attacchino caer una barrile mi ha dato di essere smalai tranquillo cosa? nooo attacchino caer una barrile no no No, tranquillamente Perché avete chiuso? Non vedete chiuso nel posto Ah, io non c'è C'è la Smasher però C'è la Smasher C'è la Smasher C'è la Smasher C'è la Smasher Eh, perché mai vio Ah ma perché Questa puo' da questo nuovo muro non c'è nessuno non c'è nessuno ma perché non c'è nessuno ma è pazzate che devono assiccare il mondo povero... povero giro c'è nessuno potenza anche tu però dovevi non ma perché fai così sennò vanno sotto c'è nessuno non 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 è vero questa è un po' di perca ah 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 io non ho avviato lì mi faccio la inglese andrebbe avviato ah io non ho avviato e ho avviato l'altro non è vero che fuggiare no pure un asciutto non è vero faccio mi terro veramente non ho spiegato due armi di un giorno non è vero che non è vero ma se sei non è vero non ho avviato non non è vero come si 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 I'm going to have the supertap vai 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 no 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 picace picace guarda che cazzo è successo? che cosa? che cosa? che cosa? no che cazzo è successo? che cazzo è successo? che si era allenizzato? uno stack uno stack perchè caricano i muri? perchè li caricano? no no cazzo di problemi c'ha no sono malati povero lì no 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 eh vai a vedere se non mettevamo le trappole pensare è persa se non mettevamo le trappole pensare è persa polizia polizia ora non significa polizia già che sono che è cazzo che ha che che cazzo che 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 Grazie a tutti. No, non posso bastare. Ma che cosa hai scritto? Eh? Io niente. Oh, lui. Eh, non so cosa scrive. Tanta distravantaccia. Forse posso portare un perco di una trappola. Sì. È un perco leggendario. Ciao, Diego. Va bene, è termino. Ma che cosa facciamo? Eh, un attimo. Va bene, va bene. Allora. o dare 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 Grazie a tutti. 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 Oh ma per... Se ti do... Oh l'ho scambiato un bulldozer al 106. Un bulldozer? Per cosa? Si. Buono lo so che cosa mi vuoi darte. Ma non lo voglio... Anche... non ce lo faccio da bere Sì, nonna Sì, mamma Nonna, che ora sono le 23? Le 23? Le 23? Ne so io Quanto ti lascia ad estare ancora? Cosa? Quanto ti lascia? Mamma, no, 10 minuti, va bene Vabbè Vabbè Ciao, ciao Eh, lo so Terminator Infatti lo dicevo anch'io prima Era 700 qualcosa Adesso è 690, 98 O sono disinscritti Oppure proprio il gioco Che è bastardo Adesso con le 2 Sì, ho fatto Rappado E sono Inscrite Ecco Nominister Grazie a tutti. 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 Forse è la stessa che stavo facendo fin da tu. Sì, infatti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Not again. Cool. No, non è... 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 oh ah quasi distrutta ah 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 oh ah 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 4 in a row! Amazing! Get ready for more, Commander. Sorry. Found the next one. Check out your map. 10 minutes left. Stay the course. Get that encampment! No, bastard. Are you serious? Uh-uh. Search. Destroy. Dump. Dump. You serious? Yeah. Yeah. Mm-hmm. There's a run out there. He's gone. Yeah. This is the big time, get ready There it is I'm not a bear I am a bear I want a bear You are not a bear I want a bear Goodbye Alright Let's go You're airborne If you keep pushing on, we might clear the zone Refreshed Found the next one Check out your map Another big fight, here we go I am a bear Watch out for the dive attack I am a bear I can't Dragonite? Of course I was also in the life of Pietro the last night I know I have seen it in the life I have seen it in the life of Pietro the last night They're against the ropes, keep it up Here we go You know what to do There it is Take her Take her I am a bear I am a bear You are not 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 a bear I was a bear I was a bear I was a bear I was a bear found the next one check out your mouth five minutes left this is it good luck you are not there uh-uh you are not there I want to go there watch the skies you are not there fire you did it the zone is cleared good work yeah GG boys hehehe that beast are these oh madonna oh yeah oh 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 well Grazie a tutti 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 Grazie a tutti